guarda ti passo il link della live il lisk della live, aspetta maxopaxo del live siamo arrivata la notifica, ho preso io è arrivata la notifica? sì, sono scritto il canale bravo a me è appena arrivata maxopaxo del live vediamo se arriva qualcun altro oh ma il server io lo mando al fanculo se permette, ho ancora 16 minuti fanculo ma tanto abbiamo questo ah ecco perchè mi lagga Dio bono, mi sto rivedendo in live mamma mia eh no perchè parte in automatico ah, ho tolto un attimo suoni posso scrivere in chat della live si ah io tengo il coso qua io tengo gui skull normal, non auto è bruttissimo tenerlo in auto ma tutti lo tengono normal, nessuno l'ha mai tenuto auto no c'è la gente che lo gioca in auto e faccia proprio il così fa eschi e c'ha la gui spalmata sullo schermo su tutto lo schermo ma cos'è? fa cagare potrebbe scattare un pochettino eh fa cagare spalmata render mettiamo mmm no far no io ce l'ho far io tengo short e io ce faccio no short fa cagare insomma short fa cagare short fa cagare pre rex and the live mettiamo normal mettiamo max performance max fts oh bello bello fluido ma una particolarità dei vecchi modpack cioè le vecchie versioni di minecraft e anche quando no anche quando tu facevi più di 60 fps comunque c'è quel frizzino che non capisci da cosa deriva sembra lo stesso che larghi anche quando sei sopra 60 fps sulle mod sulle mod si oh c'è l'energia va a fuoco mi do fuoco proprio eh ci credo c'è vulcano vabbè 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 iniziate hackit oh raga ciao lucagamer prendete il rubberwood cazzo vuoi è mio mio ho già preso due supping mi disperce è buono oh oh ma il factory reloading ma insomma facciamo da soli o tutti uniti? chi è che l'ha scritto? ci uniti ah ma non ne ho voglia possiamo benissimo basta che non non spammiamo troppo perfatti aspetta io non mi ricordo le modi che ci sono ah sono due spicci non è che sia tutto ste vabbè però c'è galactcraft bella le modi ci sono 100 minchia infatti infatti per questo non laggo c'è oh a me non mi lagga nemmeno l'infinit vabbè quella ha messi però io ne ho vado sempre 60 fissi ma c'è che brutto non ho il tracer che volto non ho il tracer non posso vedere dove siete che pare su questo città oh ci sono le cose da risonare senando serio? no si la logistic la logistic mi piace un casino max purtroppo non c'è la cracktech vaffanculo tu la cracktech ah non c'è tipo la ma c'è sta quella non c'è sta la galactycraft la buildcraft ma come è che si tronano le modi? la cosa più bella la cracktech non c'è ma come è che si cercava le modi? e che qui la litte exchange ti uscivo fuori eh chi è fa grafting? stamichhi eh beh facciamo una facciamo una section la grafting le pazzate ma? il video le pazzate si ho già fatto scaviamo un legno getting good mamma mi sembra di tornare dove ai fatti yay la prima crafting L'avevo già fatta io, brutta idiota! Prendiamo un po' di goblest... Ma che vuoi? Io voglio la mia crowd. Personalizzata, col nome sotto. Ma sai che adesso... io me ne vado adesso. Ho già preso abbastanza roba, io me ne vado. Eh, bravo, in culo. Io faccio casa un qualcuno. Io la faccio da solo. Com'è, com'è? Faccio un maxo. Un maxo, sapete che se entrate in... Appena trenta c'è anche di casa mia la gara? Sì, lo sappiamo già. Ah, lui... Guido fare peggio macchinari. No, ma sicuramente di casa mia io me la vorrei fare da solo. Sapere che ci penso. I spettatori siamo uno spettatore attuale. Wow, ciao spettatore! Sono io, voglio... Aspetta un attimo che... Che minchia c'ha sto programma di Youtube. No, i mob mi... Oh, ma... sto per morire. State riscontrando problemi, spettatori? Vedete male la live? No, li do bene. Perché Youtube mi dice che gli spettatori potrebbero riscontrare dei problemi. Se volete problemi ai vostri mentali non è culpa mia. Youtube è schifo. Esatto. Ma... Mamma mia! C'è ogni pezzo che scavi riuscì una flint. Ragno di merda, muorici! Ci stava, ci stava. Ci stava, ci stava. Devo continuare a mettere. Musica ne ho copied. Un cuore e mezzo. Un cuore e mezzo. Un cuore e mezzo. Un cuore e mezzo è copyright. Un cuore e mezzo è copyright. Max, dove stai? Cos'è andammo? C'è tre anni, andammo... Sto vicino alla lava. Ok, cos'è andammo insieme. Ecco, ti ho visto. Sto facendo tutti gli strumenti in cobblestone. No, io ho fatto soltanto la spada e... Piccone. Piccone, spadaccia. Uh, c'è altri capitator? Sì. Bello! Fiero! Popo fiero? Però ci sono i coglioni che spaccano a mano. Che è il popo che ha spaccato a mano? Come rompessi al verano? Ho trovato una caverna. C'è una figlia di in culo. Ho già trovato del... Guarda che è nel daccio. Quello è già iniziato in quarta. Ho già piccone. Inferno. Certo. Certo. Vieni qua. Oh, due cecchini. Sparano. Qui stavamo a giocare. Ah, sì. A break off stavamo a giocare. Chi è che è entrato uscito? Stavamo a guardare con semi. Oh. Dove stai Max? Ma se ci andiamo tipo su... tipo... qui? Sì. 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 Che vale. È una stanza musicale. E i letti? E modificato non c'è. I letti? O iscritti? O iscritti? Salve. Che sta fanno? Sì. Una persona in live. Oh. Si è ripreso. Oh. Calmati. Sì. Uè. 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 Facile è da nabbi. Eh. Allora muori. Che ti devo dire. Muori. Eh. Si. Maiali! Ci sono i mob. I cazzi me ne fotto le maiale. Ci due le endermen. Oh porco. Ehe. E' già morto. Oddio. F F**n c**o di uomo. No. Hai che ho bisogno di cibo. Quero è io. Què ci sono le maiali? Io ho fatto cim Arrivese. Eh, era vero, mazzo. Aspetta, mi hanno dato un'altra cosa. Poi, come mele? Mazzo, dove stai? Prendete sta mele. Prendi di puttana. È stato un creeper. Ti dico soltanto che c'ho... È giusto stato un sampling. Minchia, ho detto cazzo, è sbattito la porta. Ho detto che ce l'hai detto in casa. Oh, grazie per la mela. Eh, sì, buona buon'acqua. Eh, sì. C'ho mezzo stack di subbing, quindi no. Ah. Ma c'ho la carne marcia, poi mi mangio quella. Ma ancora può mettere giorno? Eh, certo. Non c'è che fare. Oh, lì sta in cavera. Oh, una mela! Fa macchina. Ok, no, per me. Non c'è chi non c'è stato. Sì, non c'è il cecchino. Brava. Che vuol dire diamanti? Cecchino. Oh, ma cosa ho trovato? Cristo! Qua io mi ricordo, qua io ci sono morto malissimo tante volte. No! Quello che si fa, che c'è dalla porta. Porco disco. Eh, vabbè, ma ci sono... No, ora adesso non ci potremmo andare. Il portale. È bello che si arriva alla fine, eh. Ma cosa riesco a sentire? Oh, mi ha dato una carota! Mi ha dato una carota! Ma spai che ha perso il simone. No, perché io aspetto, sono abitato in 1-9. Perché io posso perso al mare. Io sono abituato a fare il critico, porco! Oh, ma ammazzano questi stronzi. Oh, una testa! Di zombie. Ah, pensate mince. Guarda, mazzo! Guardami. Ecco, bravo. Vedi, ti confondi a fare la panna nucare. Così non ti ammazzano. Porco... Oh, una testa pure io. Vai, vai, mi confondo pure io. Eh, però vogliono sempre me, porco... Guarda, però, cosa succede se fai... Se lanci qualcosa? Ma che è? È rispannato il portale. Ma sono il petrolio! Eh, mi sa che ho fatto una minchia... Eh, crafta una porta veloce, perché sennò queste qua si espande per tutto il mondo. Merda, non devo fare. Hai fatto io? No, però ho già fatto, ho già fatto. Porta, porta, porta. Abbiamo salvato il mondo. Se non ci mettevano la porta, morivamo tutti. Ho tre cuori, Cristo Dio. Andamolo dietro, andamolo dietro. Lol. Cristo, mangia! Mangia, mangia! Mangia, carne e marcia! Mangia la carne e marcia! Mangia, mangia! Ciao, mito! Minchia, aiuto! Sì, c'è mito. Sai cosa fa questo? Sai cosa faceva questo coso qua, se non metto la porco? Mito. Continua a fare casino. Continua a fare casino. Allora, mi ha crafting! Beh, la ridò. Grazie. C'è un creeper dietro di te. Però bella, mazzo. Oh! Eh, l'avevo sentito, infatti. Tornano a letto di minchia. Sai che se non mettevo la porta succedeva un casino? Questa cosa, questo, questo, qua, la corruzione si andava in tutto il mondo. Ah, il corset. No, è quello del portale, è presente? Quando sparisce il portale si corrompe tutto il mondo. A meno che non metti la porta. Eh, si corrompe tutto il mondo. Oh, finchia, sti alberetti. Torniamo la porta. Torniamo la porta. No, scemo, devi tenere la porta. Si corrompe tutto il mondo. Ok, ma non so cos'è. Si crea un buco nero. Ma cos'è, mazzo, non so ne scello. Ok, mazzo, non è miniero. Prima uccidiamo i maiali. Sei serio? Oh, trodò una miniera, trodò una miniera. Guarda come uccido i maiali e uso il creeper. Creeper, vieni qua. No, non mi seguo questo stronzo. Oh, vattene a fare le polle. Eh, sono quasi morto, sono quasi morto. Ho mezzo cuore, 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 ho mezzo cuore. Max, ho trovato Carboni, Cooper. Ho mezzo cuore. Cioè, mi dai uno schiaffo e muoio. Mangio la mela, va? Leggo un nome là e dimmi come smacca. Sì. La brutta è merda. Voglio l'albero rosa. Anch'io l'ho trovato, però ho detto no, lasciamo stare, ci sono troppi. Voglio l'albero rosa, mi do. Minchia, siete? Che casino. Ah, la tricchia, c'è la tricchia, c'è la tricchia, vai, tricchia. Aspetta, Maxo, uccidi i maiali. No, ma ancora un po' mi uccidono loro quello che lo scorreggio. Cristo, c'avo mezzo cuore. Non si vede le pecore così, non ci vede. Ma l'albero. Oh, che pale, qui sei. Una cosa che mi servirà molto a me. Certo, squarze. Ah. Ah, 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 ah. Cioè, esisteva qui. Sì. Ma c'è chi? Sei la mia ombra, figa. Mi giro se sei sempre te. Oh, ma oh, Maxo. Sono oltre il cuore, c'è il cecchino. Dove sta il cecchino? Io c'è una quarta. Sotto l'albero. Oh, Cristo. Mi mira, mi mira, mi mira. Mandolo a V. Ecco, perfetto, ucciso. Eh, a me mi si è rotto per la spada. Eh, a chi lo dici, l'ho picchiato con la lascia. Aspetta, li faccio un attimo alla fornace, così mi ha toccato un po' di carne. C'è l'ha preso. Perché non mi ha dato l'albero? Ah, si me l'ha dato. Zitto, zitto. Pazzo. Ho 4 di Iron e 5 di Coffre. Oh, semi. Eccolo. Ho 3 semi. Io li ho buttati già nella lato. Guardate, ho pezzo dei goble. Ciao, sono Taccata. Ciao, Taccata. Ma che ti ricordi di me? Ui, Taccata. Ma Taccabro. Asamo lì con Taccata. Asamo lì con Taccata. Taccata. No, vedi, mi smette la società in Alcogride. Ah, scusate. Non Alcogride con la canzone. Non ce la canto io. E' fatto io con Taccata. Sono lì con Taccata. Era così, no? Sì, sì. Ma io ve ne fotto tutte queste. Non che cazzo me ne freddo. Ho le canne a zucchero. Oh, madre. Esatto. C'è due canne a testa. Uno, qualcuno se ne fa una in più. Perché su sé. Ho una per una. No, ce ne avevo due a testa. Siamo lì. Ma una cosa. Eh. Scrasciato, Mido. Bella connessione, Mido. Complimenti. Infatti sta rispondendo molto a queste domande. Ciao, Mido. È stato un piacere. Io sto continuando ad andare avanti a carne e marcia. Per ripararmi la vita. Vuoi scrivere? Io leggo. 300 iscritti, Maxo, Viderazzo, Rumore, Delema. Esatto. E poi posso fare mele uscite su WhatsApp. Se c'è qualche iscritta. Ma voglio scrivere, sì. No, lascia stare che iscritte sono solo fake. Io ho Beatrice Esposito. Eccola, c'hai i gradamenti come iscritta. Magari. Collettate a forma di cuore. Perché ha pensato di forma di cuore. Hai visto il video di Manolasky, eh? Sì, tutti gli ho finito. Minchio. Non ho fatto solo lui, comunque. Cosa stai? Eh, sto camperato. No, Max, dove stai? Così, io ho fatto... Sto camperato in miniera. Ho fatto carne. Hai fatto carne? Eschi, eschi, eschi. Esci dalla miniera. Oh, è un attimo. Sto scavando sul carbone. Il carbene. Le carbene. Ai ai ai. Dopo si uscirà la coca. Dopo io le uso le poze di merda per fare la musica. Sicuro. 100% promotore. Funziona il microfono, mi sentiamo? Funziona? No. Io intanto mi sento la musica mia. Musica. Mi sento quella no copia. Quindi... Ah, quanti bacchetti ha sto bacchetto. Non so se ho sentito un fulmio o una moto. Una molotov. Una molotov, esatto. Dove sei? Oh, cibo, cibo. Questo è tutto cibo. Io c'ho undici pezzi di carne e cotta. Cibo. Tutto cibo. Pecore. Sì, pecore. Sì, siamo in letto. Esatto. E una domanda, c'hai due pezzi di goble? Sì, no. No. Vabbè. Eh, c'ho anche l'otto di ferro. No, non mi servono. Io ce n'ho quattro. Parla bene, minchia, o meno male che ho crattato i pianbi spaccati. Parla bene o usa parole? Usa, no, non era. Parla bene, usa l'educazione, è chiaro. Tutto il cavolo, la polizia. Ah, metti il carbone e il arudo qua. In teoria cuociono di più di stick. Cazzo dice? Sì, cuociono di più di stick. È vero. Tanto mi faccio il piccone io. Perché metti 37 di carbone lì? Io ho calcolato per un solo pezzo. Max, sono attaccato di quella di Minecraft Royale. No, circa Thermal Glasses. Che cazzo esce? Terminal Glasses, circa quelli. Che cazzo esce? Cercali. Ma a me riscrivo qualsiasi cosa e non mi esce una minchia. Ah, ok. Termal Glasses. Che dov'è? Che cazzo stai dicendo? Ma questa è fidata. Che cosa sono? Che cazzo è MLG. Serio? Come si fanno con due computer? Che cazzo hai? In Google Glass sono. Ma che figo, c'è l'Estracell. Bella l'Estracell. Che c'è l'Estracell. Tanto ce l'hai grossa la minimappa. Piccola. Non è grossissima. Oh, ma è fottuta la fornace. Chifoso. Ce l'hai detta nell'inventario. Sì, sono una. È mia. La tua volta e te la sei presa te. Eh, ora ti tolgo questa. Anche in culo. Ah, te la sei presa te lo stesso. No, ora ti tolgo la crafting table. No, no, questo è via. Eh, non rompe le falle. Dovevo cuocere io. Al cuoco, vuoi? Eh, che cazzo. No, oggi quando mi ha detto vada a cucinare. Non mi ha aspettato. No, neanch'io. Ma infatti non sono andato a cucinare. Oltre la danza pronta. Oh, c'è una pecora. Pecora. Sì, mamma che cuoce sto stronzo. Sarai una merda, eh. Con due o... Eh, mo ci rimetti te i pezzi di quali che mancano. Ecco, bravo. Cazzo, ma se faccio il calcolo per otto pezzi tu mi devi togliere, no? Eh, potevo arvestare la pecora. Arvestare la pecora, che vuol dire? Arvestare delle pecore. Esatto. Arvestiamo il portale? Sì. Con l'ar... Ci sta l'arvester? No. Ah, grazie per il carbone. Sì, ci sta l'arvester, ma infatti riloggi. No, vabbè. C'è tutto sto mondo. La jetpack della simple jetpack. Aspetta, iniziamo a fare cose cosanti? Eh, non è miniero prima. Tipo... Come si chiamava? Perché vuole equivalent exchange? No, non era quella. Sì, va a me buttà merda, però, eh. Non è merda, è per l'inventario. Sapling. Ah, qua c'era la philosopher e la Minion Stone. Le sapling non mi servono a niente. Oh, grazie. Grazie. Prendi. 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 Grazie. 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 Prego. Oh, perché qua non sta più cocendo? Ho metto il piccone. Tutti i picconi... Merda. Crash. Crash. L'ho montato. Che ho fatto come entra un po' di player qua? Eh? Come entra dei player? Eh, cioè... Mai rittaccata sarebbe felice di entrare. Ah, se una scrive in chat. Eh, lo so. C'era, non mi ricordo. Ma hai pure scassato cose in VGF. Se mi hai fatto entrare nella mia fazza. Non ci gioco in VGF. Procci. Ciao. Che cazzo c'è tra voi? Stavo cresciato. Stavo cresciato. Che cos'era i Nerd Stone? Ma qua non c'era... Non c'era mica il tavolino fiero? Fattava c'era tutta. Come no? Del diavolo in chat. No, qua non c'era. Ah, qua ancora non c'era il... Quello della... Da progetté, tipo. No. Ah, Fili. Bellissimo. No, dai. Eh, ti allontani per favore? Perché? Per un solo motivo. Tipi di tante roba. Ah, noi mini eravamo. Vale, fatti. Sono carico come un suino. Però c'è un piccoli ferro. Sta a favore notico come viene andato adesso. Esatto. Oh, ma lì ci sta... Ah, no. Sono sciombo io. Niente. Electron Blend. Però quando non le vado a DVD, se non c'è... È già morto, mazzo. Eh. Pure te. No, non mi fa correre, non mi... Mazzo, mi serve silver. Cold. Ma come v'è a correre del mazzo? Eh, con la W? Premi due volte, corri. Cominacchi. Ti toglie dal cazzo. Ma perché mi devi seguire, oh? Veramente. Devo mandare in miniera. Hai fatti la tua miniera. Oh, bingo. Te lo do un po' suguero. Ma non scassare a me. Io sarei a me. Ma magari questo doveva. Dove se la fa di fianco a me. Io poi ti piazzo un QR in testa e ti scavo il cervello. Sì, c'è stato il QR qui, eh. Ah, perché resiste qua, scusa. Eh, mi piace così. Sì, credo di sì. Sì, c'è stato, c'è stato. Ma attaccata non vuole entrare nel server, vero? Vero che non vuoi entrare nel server, vero, vero, vero? Vero che non vuoi entrare nel server, no? Quindi non vuoi, eh? Confermi la tua ultima risposta. Beh, non entra nel server. Oh, c'è molti iscritti, eh. Lui, eh. Allora, scusa, è troppo fonoso. Maxon. Che c'è? Stiamo giocando a Sim City. Perché c'è la Maxon? What? LOL! Ma che è? L'hai sentito? Eh, ma che era? Lascia stare, lascia stare. Aspetta, aspetta. Oh, mi rubi sempre le torce, che palle. Sempre le rogui. Guarda che cos'era. Eh, ma che è attivato, dove sbagliato l'autoclick. Eh, sì, ma inizia a sparare le torce. Ma inizia a spalmare le torce. Sì, a spalmare come la Nutella. Esatto. Ho per... Non posso, Dio. Perché non puoi, scusa? E' Tech Hit quella di vecchia, eh. Non lagga un cacchio. Ma la Tech Hit c'è soltanto 109 mod. Eh, la riguarda tutti in più. Non lagga lui. Ma se non lagga me. Poi, i posti ce ne sono 10, siamo in tre. Ebbè, posso mettere in mille posti, eh. Eh, sì, che mosti. Io sono arrivato al livello 12, non sono felice. Al 9 sono ancora più felice, guarda. Ma io voglio trovare Rubino e quelle robe lì. Così mi faccio i piccoli e i Rubini. Già trovato. Già, Max, ho già trovato gli alloretti. Sei un bucio dei culosi, eh. No, cioè, semplicemente... Ma io la vado a cercare. Eh, con la X-Race. E so dov'è. No, sì, come no. Non so dove si trova. Non so che altezza si trova. Cosa si chiama? Cosa si chiama? Cazzo, c'è una voglia pazzesca di scavare nel Deep Dark. Però non esiste, come si sa. No, non esiste ancora. Minchia, che voglia pazzesca. Nel Deep Dark è tipo, muori se non c'è la luce. Se non c'è i... Illuminium buzzer, come si chiama. Pan pan, pan pan, pan pan. Hai visto? Ho fatto pacchetti che ti hai fatto uno nuovo. È tutto bello, il mio. Che te la cava quando c'è chi ti torce a mano. Ah, è vero. Cosa? Ma sai che ti dico? Ma affanculo. Perché c'è il silo? Perché sembra la sua mille al diamante. Ma però ho trovato coso, petroio. E palle. Grande. Ancora. Eh sì, però se casca un petroio c'ho più da morire. Ma non ci muori un troppo petroio. Esatto. No, no. In questa versione non ci muorevi. No. Ma serve una mod, vero? Sì, sì, sì. Non so che mai capire da... Sì, proprio una ne serve. Sì, sì, una. Ne serve una più al 308. C'è una festa, siamo in 103. Palle grave all'attuale. Oh, prendi, prendi, mi serve a me. Non so perché, ma mi serve. No, scherzo, se vuoi non prendo. Se vuoi non prenderla. No, prendo il fantasma. Oh, rubo, rubo, rubino. Rubo, rubo. Cosa? Rubi. Rubino. Rubo, rubino. Cazzo, questo è il rubino bello. Cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo. Oh, rubino, zaffiru. Pure zaffiru dietro, cioè. Eh, vabbè, ciao. Ah no, il periodo. Cazzo, io ho già... Sono già riempito l'inventario di roba. Basta, piccone di rubino. E zaffiru. Cazzo, io ho uno slot libero dell'inventario. Oh, fermo. Cazzo, è stato. Eh, mamma mia. Eh, a parte mia. Guarda che è uscito dalla camera. Ma quindi qui non c'è il tavolo. Il tavolo, quello lì, di The Cheater. No, purtroppo. Ah, peccato. Però ci sono DMC, mi pare. No. Ma ne ha scola, che palle. Altro petroglio. Ah, c'era la cesta quella lì per... Che duplicava le cose, no? No. Sì, almeno quella c'è. Sì, quella c'è. Quella c'è, mi pare. Ma no, quella non c'è stata sul pantonello. Ci sta la cesta, quella dubbica la merda. La cesta con la lì che... Tu metti la cobblestone e ti fai diamanti. No, quella lì, no. Quella lì è una legend. Eh, che palle. È un po' cittosa. Ecco la nate. Mi sembrava che ho trovato diamantica. Eh, ma minchia, guarda che stavamo trovando un casino di roba qua, comunque, in miniera. Sì. Cioè, sinceramente, chi se ne fotte? Vabbè, nel modo perché sì, c'è sempre i minerali più facile trovati. Ma io mi farei una casa, tipo... Che ha fatto? Oh, Cristo! Ecco la ritorno, ce li troviamo tutti diamanti dietro, eh. Oh, merda, oh, merda, oh, merda. Sono caduto proprio a pennello. Minchia, mi sono lanciato nel buco. Non capite male. Però è così. Io ne posso riuscire, no. Volevo il silver, ti ho trovato una parete di silver. Cristo. Io vedo la cadastra di un creeper che mi guarda malissimo. Ok, ho trovato la lava, quindi potrebbe essere c'è un diamante. Ma vi siete accorti? La cobblestone è più facile da rompere da... No, la stone è più facile da rompere da cobblestone. Eh, ma dai. È sempre stato così. Non si sa perché è mai così. Mamma mia. Pure riparate le scalette, mi metto. Ah, cazzolini. Vabbè. Ogni volta che leggo i commenti su YouTube, veramente mi stupisco. Yeah, latin. Ci sono dei collegenti su YouTube? Qui c'è dell'oro, ma io sento di schede. Io sento che devo costruirmi una casa. Farmi una cesta. Come si metteva il white point? Così, tipo. E con la M. Con la M. Cristo, Dio, che schifo. Aspè, bisogna un white point. Tanto non posso tippare. Eh no. Non stiamo con la Giardini. Mi va. Tor, l'ho chiamato Cristo, Dio, il white point. Questa è la miniera. Felice? Cristo, Dio. Cristo, Dio, a nove metri. Cosa è che stai cantando? Eh no, ha messo musica sottofondo con me, VNCS. La seconda playlist che hanno fatto di ripire. Ma vai a fare un Google. Di aprile di Pixel Music. Senti, ma se io mi campero in sta caverna? No, tu hai fatto la minina di fianco a me. Ma guarda che babbalucchio sto qui ho. Di fianco a me la dovevo fare. Ah, trotto petrolio. Lo vedo da qui. Quanto godo, quanto godo. Che fa quando mi fa caldo? Eh sì. No, ma vuoi. Ma vuoi fare insieme? Eh, però almeno modernizzo io la carta, però. Eh, io a costruire, faccio schifo. Ma scatemi che c'è il basalto. Eh, non faccio schifo. Faccio schifo nel vanilla. Mi chiedi di costruire. Ci sono, ho trovato altri due portali. Cazzi, tuve? Che vuoi dire lei? Io sto... No, 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 non li chiudo. Ma che sei riuscito? Non li chiudo. Sì, sì, sono uscito. Prima fanno mangiare. Hai fame? Ok. Sai cosa che ci vuoi fare in casa? In un posto bello spiano? Cioè qua è tutto spiano praticamente. Vabbè, sì, dove stare? Ce la facciamo qua sopra? Ecco, ti vedo, ti vedo. Salta. Eh, non sono sotto. Adesso fa. Ciao. Canne! Che brutto non avere la che laura. Casa sull'albero. Casa sull'albero, non è sì sceo. A di per te arremori. Esatto. Perché c'è un casino in i roll? Io no, pochi. Ma fai qua la casa. Ti serve legno per caso, mazzo? No, non mi piace tanto sto posto. Io lo farò un po' più lontano. Dai, ominavo. Oh, è un cazzo. Un pesco come corre. Aspetta. Ma che ti ho sti cr***i che continuano a esplodere? Aspetta. C'è un... Aspetta, aspetta. Mi aiuto un'altra mia attima. Quando? Ci sono due portali qua. Si sta creando uno schema. Io mi segno il numero dei portali, eh? Perché... Così sono uscite. Poi un giorno c'è il segno di entrare a questi portali. Lo segno tipo P1. Che cazzo sei tu, mazzo? Mi sto segnando i portali. Eh, segnate l'idea. Perché così quando stiamo dentro i portali poi sappiamo come scappare. Se no poi è un casino. Ma se entri, ti spaventi perché vedi le facce degli enderman che ti fissano. Mazzo? Eh. Ti aggiorno sopra. Non le facce degli enderman. Si, è il giorno. Un cratere. Un cratere. Bellissimo. Come cosa qua dentro il cratere? Ma sei scemo. O mangi i sassi. O mangi i cobblestone. Sei scemo o mangi i cobblestone. Comunque intanto waypoint ci... No. Si. Lo salvo waypoint qua. Ma cadere il cratere. Aspettate, vado a prendere Ringo. Ringo. E io Ringo? No, no, io mi Tingo. Ma te la fai qua. No, la casa però lì ci stava benissimo qua. Max, ho il quantum more. Qua è il punto più alto. Max, ho il quantum more. Quantum more. Il quantum more l'ho trovato anch'io. Io non l'ho ancora scavato. L'ho trovato prima. Qua si può fare casa, cazzo. Si sigilla questa caverna. No, questa caverna non si può sigillare. Sshh, quarzo. Bello. Tanto la perderò sicuro. La caverna. Intanto c'è colui che è andato a prendere Ringo. Oh, ma un posto dove fare una casa. Bella, grande, enorme. Qui. Qui si può fare casa. Qui, questa zona. Basta, ho deciso. Faccio qui casa. Qui sarà casa. Se sei Ringo. Basta, ho deciso. Qua si fa casa, eh. Mi segno un white point. Se vengo in TS, posso entrare nella stanza? Quello di stamattina. Sì, vuoi entrare nella stanza. Chiedo di no, basta che non fai come Mido. Che Mido sei su quello di stamattina, insa. Che stai, mazzo? Ehm, sto vicino alla caverna. All'inglese, la caverna. E' la caverna. C'è tipo, dopo la caverna, c'è tipo una specie di montagnetta, dietro c'è casa. E' il Bingo. Ti vedo, ti vedo. Ah, è così. Di là c'è stato l'altro portale, guarda, vuoi me lo sembra. Anche perché mi è capace buona. Aspetta, questa la... Gli do un nome nella mia cesta, se no me la potete. Olè. Vabbè, dato poi se siamo... Posso mettere la roba in traccia sua? No, no, fatti il tuo cesto. No, qua è per svuotarmi l'inventario, è così veloce. Eh, per me. Aspetta, come si fa a svuotarmi l'inventario velocemente? Tiè, fam. Ehm, shift e barra spazzatrice. Ok. Gli alberi io li ripianto, comunque. Pre, pre quest... No, questo dopo, più tardi. Io sono... Se hai bisogno ti pigli un cartello. Eh. Oh, io qui, io. Ok. Vado a plantare qualche albero. Quelli colorati. Tipo, però li metto anche in casa, cazzo mene. Mi piacciono questi alberi qua. Quello di albero. Comunque ci sono dei, tipo, delle specie strani MC, in questo park. No, quello là non è MC, quello là è un studio. Aspetta. Lo devo mettere meglio. No, se ti cambia cosa perché lo potremmo lo fare tutti, diciamo. Sì, se li guarda così. La simmetria è uguale. Sì, ma io volevo farlo un po' più... Sbore. 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 Un po' più sbore. Sbore. Sbore, esatto. Un po' più sbore. Ciao, Andrea. Ti ricordo di me, sono taccata, lo so, che sei taccata, ma le stai raccata. Tattata. Ma sai che ti dico? Faccio un piccone in periodo. Tiè. Il piccone al pistacchio, lo vuoi? Buono. Andrea Silk ha 1056 iscritti, complimenti. Complimenti. Lo vuoi il piccone al pistacchio? Ti d'amolo. Oh, te lo regalo il piccone al pistacchio. Ah, io c'ho ancora la testa di zombie, per confondermi fra la fauna. Ah, però te... Di darzo non ce l'hai niente. Eh, no, non sai com'è. Ne faccio uno anch'io, così. Poi una spada, in periodo. Vabbè, poi li userò. Si va a scavernare? Ah, c'ho pure 6 frecce. Andiamo di nuovo in caverna? No, volevo questo scato. Ah. Eh, ti fotti, vado in caverna. No, mi servono i minerari. Oh, copper. Sputtaci sopra. È piccolo questo. Lo so, volevo andare in quell'altra, infatti, cacchio. Ho trovato sotto, io ho scavato fino in fondo. Ho trovato una caverna grande. Grandissima. Sotto tutti a sé. L'ho pure salvata. Vai, si chiama Cristo Dio. Si chiama la caverna. Dove sta? Poi, ma che è il canyon, dici? Eh? Il canyon, dici? Sta qua, vedi? Ho perso. Eh, si è perso. Io ho messo il point. Lo trovo subito. Ok, ho trovato un canyon. No, cosa ha scritto? No, ti ricordi? No. Ho scritto io o meno. Eh. Eh, ho capito. No, non c'ho più il call. Vabbè, chi se ne fotte. Che io sto dentro il canyon. Dovrei prendere un po' di legno, sai? Ehm, minchia, ma si dimmi. Vabbè, non fa niente. Oh, due spicci. Speriamo di trovare una miniera, almeno trovo... Io sto nel canyon. Sto nel canyon? Scavo un po' nel canyon. Ci sono un bel po' di cose. Sì, se lo prende già minerale. Oh, sboccio acqua minerale. C'era un modback che... ...era un più video che volevo me per studiarti io. E... ...per esempio, se trovo a livello vinti i diamanti... ...non erano i diamanti, erano formiche strane che riuscire a spuntare dall'oro. Formiche strane. Qua mi sa che c'erano spawner o qualcosa del genere. No, scherzo. Scherzato. Forse no. Ok, forse no. Ferro! Ah, volontà. Mido? Sei morto. Ah, ok. Stai inardando in silenzio. Branch mining. Riposa in pace. Stai minando la scaglia di pesce, lì. Scherzato di pesce. Minando a Xander. A Xander. A salve. Altro a 3 e larghezza a 1. Sento scheletri, non mi piace. Non c'è. Così nulla viene lasciata. Mamma mia. A che livello sei? A 9? Che palla l'acqua, mi sono i canyon. Ma voi siete di sotto, vi ho visti prima. E' certo, io sono a livello lava. Sono a 14. No, perché proprio quando voglio salire è buio. Che sei sfigato. Oh, io sto raccattando su di tutto. Redstone, silver, le... Sì, raccattato. Ma è già 54 di yellowrite. Bravo. Che serve a yellowrite adesso? Allora, big... No, non sono un cazzo qua. Adesso no, sì, è big... Big realbero, però. Ma esiste qua, scusa. È big realista, sì. Ma... Ma es... Ma es... Ma es... Ho già a livello 14 quasi. Sì, esiste la big realtor. Intelligenza. Sì, esiste, vai a yellowrite o dire che esiste la big realtor, no? Oh, lapis! Lapiscazzoli. Lapiscazzoli. Sono pieno. Io ne sono pieno, io. Ma sei pienissimo. Bobo Piero... Ma come tre giorno, per favore? No, si citta. Anche io. Dai, almeno è il giorno. Come non sei hoppato? Hai fatto se il server? In caso, ora non lo sono hoppato. Ah, vabbè. Dai, qualcuno metta il giorno, per favore. Mi dispiace, niente OP. Ma di cosa niente OP? N-OP. 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 È la segreteria telefonica di Mr. Giorgio. Per avere informato. Tu dì... Tu dì N-OP. Tu dì N-OP. 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 Yeeeeh, lapiscazli. E poi ha un piccolo ampio spazio. Fensa alla spazio. Minchia. Ah, c'ho... C'ho... Piselano al pistacchio, io anche. Dov'è il mio ferro? E ecco qua. Bobo Piero... C'ho sei cose sblocitanti, quantum dust. Sono... ORO! io sono già pieno di certi squarze io mi sto riempendo di oro senti un cavallino no cristo arrivo in mob mi sento arrivo la pula ah no il coppio usiamo la gomo scrivo come in inglese come in inglese rubber che perolipaglia ti estingue acqua di merda oh certo squarze oh sta acqua di merda non si vuole estinguere no mazzo non c'è catarys catarys cammello no vandermi come ha sentito più l'azzo si io boh non mi sa che ho risvegliato l'acqua ecco infatti non si può scraftare ma se non si può sfruttare la filosofa stone non si può sfruttare la filosofa stone non ci sta il mod ma si che c'è filosofa stone ma non ci sta filosofa stone wipe si si non si può scraftare ok non si può scraftare perché si troppa oh io mi sono rotto il cazzo di sta acqua vendere un dust che cazzo vuole vendere un dust ah sono quelle per fare il bastoncino però il bastoncino non ci sta mi pare il baston si c'è ah buono buono la divining road divining road il bastoncino che è che si ricorda al video in cui ho detto ci sta il bastoncino e poi il mega drop sotto vendere un dust ma su cosa è vero vendere un dust asci perchè maxo c'è asca e ciume esatto pure in chat non scrive più nessuno eh eh no oh scrivete che se no non guadagno io mi diverso rispondo che in chat no nel live si guadagna con i commenti pensa a te ok se mi metto a spammare ho i guadagni no perché non ho collegato questa campagna niente o è enderman o è enderman inculata silverone ma io ho stacche stacche di silver di silver io ho zombie stupido non ho capito c'è stacche di teen aspetta su un cittine ma c'ho stacche di teen ucciso l'hander vintini ucciso l'hander vintini zero ender pirlo ole 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 pensavo fosse diamante e invece lo silver oro 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 c'è sempre quella frizzata sorda si si c'è arrivo ogni tanto la frizzatina bello? no io ancora non ho fatto la frizzatina ma non è la frizzatina proprio la fri no no ti congela oh non ce l'ho eh cerciare i pc scassi oh petrolio olio abbiamo petro mamma mia ma che bello no c'è un cecchino che scappo ok io ho parecchi minerali infatti oh ferro no vinculate max olifau c'è tanti minerali eh se sapessi io cosa ho scoperto per sbaglio cosa? una caverna col petrolio ah sembra il petrolio come l'acqua si ti guardati per sbaglio? per sbaglio no stavo cercando di arrivare al livello di amanti a livello di amanti perchè non si può craftare perchè non si può craftare oh rubino guà che cazzo di caverna dove è andata a sbloccare qualcosa rosso? f7 premi f8 vaffanculo c'ho c'ho clic su f8 incomincia con va che caverna no no guarda che caverna che ho trovato oh lo spawner ho trovato lo spawner no vabbè questo è culo eh una cosa mi dava parma eh se qualcuno mi aiuta eh io non so dove stai cristo non dovete sparare con il sto dio vaffanculo dio bono max no c'è il deep dark c'è il deep dark? c'è il deep dark? porta il tuo deep dark il celeste utile bello c'è pure il transfer node ma fa male il pistacchio eh fa male il pistacchio in mezzo ai reni ma che mangia ma? ma che mangia ma? ma che mangia ma? uuuuuh ma quanta roba i floppy disk questa cesta è mia anzi no lascio qua quantum war ma si può? ho trovato tutto ho trovato tre lo spawnerli zombie quantum war e max lo definisci tutto allora ho trovato una caverna per sbaglio con il petrolio e di fianco lo spawner erano di zombie ma c'è il tester c'è il tester c'è il tester cazzo perfetto ragazzo vede che ho trovato sto senza nafta ragazzo vede che ho trovato che è sta roba? uranio? che si è trovata? niente ho trovato uranio uranio mi sono segnato lo spawner ma alla fine che serviva quantum cojo quantum dust cazzo si però max sotto i micchi mi chiede la musica se no diventa un po' falloso cosa? sotto la live mi mette la musica se no diventa un po' falloso ma io metto ma ogni tanto si la metto poi la gente non si aspira un cazzo in chat oooh il silicone il silicone il silicone ehm c'è falta roba che giocate il silicone mi sento che mo' mi spara in culo un cecchino ti giuro me lo sento dietro no io asco dalla caverna ma perchè io io provo a cercare diamante e trovo queste cose queste caverne infinite ma cazzo c'è l'antimateria c'è l'antimateria uuuuuh no raga ci ha detto che ho parlato diamante ho trovato diamante hai trovato diamante? si ho due diamanti no ma fai cagare basta solo va cagare va io sto a livello 15 io buono devo scendere ancora di più guardalo questo l'icone fiero io a casa mia me l'ha fatto mazzo tu sai come mi verrà fatta a casa mia con il filler lol io sto scendendo proprio bene in profondità ma ah e ora ho lo spray col peccone di ferro tanto non serve una minchia oh oh adesso non mi oh ma quanto silicon devo scaricare l'hac salvini l'hac salvini si perchè ehm I need the help me la torce visto su scandal buio oh questo mi fa luce 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 sto a livello bedrock quasi quanti diamanti hai trovato? zero sono appena sceso io esco ma qua è piatto scusate si è piatto e allora è piatta la bedrock l'hai fatta a cazzo di cane perchè hai detto che esce? giochi? no esco da caverna ah ho detto esco cosa fa? ora prendi e spegni il computer no ma serve rimane on tanto ah ma no ma spero oh mi metto un attimo qua FK voi parlate e intrattenete pure io vorrei vedere un po' di qualcosa ma io ho il servono quindi devo fare livello quindi che legge vabbè voi intrattenete eh allora lui si chiama Medo allora ragazzi io ti dico un segreto di marzo te lo dimo te lo dico te lo fai ti dico un segreto di marzo ti dico un segreto di marzo anche cosa chiedi? ma le mi ma 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 è il risultato sono benvenuti in questo nuovo video e che dobbiamo mettere oh ho lasciato un pezzetto di carne in cucina grandi quanto un mignolo vado a vedere ci stanno le mosche che girano porca puttana quelli che hanno già depositato le larve ti giuro c'erano le larve è passato sarà passato un marzo minchia ma si può un'oretta fa ero lì in cucina guarda questi che belli i miei alberi bravo adesso tu guarda questi e tu guarda questo e tu guarda questo e tu guarda questo purtroppo non c'ho la webcam guarda questo che ciccione floppy minchia vecchia di 30 anni oh c'ho 12 rubini qua ma si può ma sai qual è il bello? io c'ho le zanzariere in casa ma l'ho trovato ma l'ho trovato perché sposa un creeper ah no io ho trovato la tua casa mazzo eh to vieni qua che ti do un nome aspetta eh no facciamo un po' di me mazzo bastoncino quindi speso già ce lo sei fatto però non funziona eh non è incantato con niente no però dovrebbe funzionare normalmente ma come si è cartato il bastoncino? non mi conviene guardare dentro le mie ceste oh porco schifo no non c'è un cazzo dai chi è? lascia la fragola faccio la bella chi è? rosica con lascia la fragola c'ho lascia la fragola che vuoi mettere? anzi se no potrebbe essere maxo c'ho la spada ai gucchi ho la spada ai gucchi la spada in diamante e la spada ai gucchi vorrei che te la fai in diamante se dirla ma come cazzo te ne frega? non puoi usare la baritata infattela in imperi oltre tipo altre robe ah un gelato? allora menta guarda maxo menta pistacchio e puffo pistacchio e puffo ah ma qua non funziona l'f3h l'f3h quello per vedere la droguità dei di items ah no portalo qua no che fallo oh però sti alberi mi piacciono tana io ripianto cazzo mene chiedo questo quantum dust serve per la piede ecco cos'è ma se sto in tenza persona è di qualcosa di interessante oddio ho spaccato un altro albero di fianco ma le skype senti no skype ma chi lo uso più skype? io lo uso infatti cioè non lo uso neanche non lo so no io utilizzo il retorto che cazzità può cazzeggiare veramente su skype c'era c'era una che mi fa male si ti porta questo è questo mazzo eh? questo è questo quello? mmm quello mi sa tanto di di money no no un po' di di menta con un po' di limone menta limone limone e menta pistacchio e puffo no oppure quell'ascia lì poteva essere il cocco con no fra perchè se fai f3 guarda l'hotbar non è f3 f5 guarda l'hotbar eh si diventa negra è perchè sei fuori dal tuo personaggio diventa mido style ma non è tempo ancora cazzo dove c'è la legna tu pianta pianta lo sai che c'è il bug della tri ah c'è il bug ma ti sei f***o del bug sincero devo fare in casa è utilissimo devo fare in casa prendi questa roba il pane quotidiano io devo fare casa? si ma in legno ma ti pare che la faccio in legno ma la faccio in blocchi futuristici allora li dame legno magari ah l'ho già messo eh uno stack si è preso eh uno stack ho avuto tutto dato ma che cazzo ne so guardo nel live guarda ma non so quanto mi hai preso quindi quanto ti ho preso il cubino me lo tengo dietro ferro pure eh erav silicon erav silicon i floppy disk quanto cazzo sono vecchi eh 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 c'è la realtà di gesù cristo si floppy disk è un po' un po' di legno guarda ah c'è che cazzo pizzer il pavimento lo facciamo in cosa? cosa allora fa un c**o? quello dopo 30 anni scrive allora fa un c**o il pavimento lo facciamo in no questo non lo chiamo guarda questo di questo ho flesciato un mito qui di fianco e sai cosa? dobbiamo piantare sta cosa qua anzi no non vorrei sprecare così qua adesso chi è sta piantando roba? i regoli che mannano aspetta come i letti ce l'ho eh ah io i due rani ce l'ho qua vuoi che faccio i forbici? era meglio se faccio il forno oh qui c'era piantagione c'era piantagione danni ma cazzo ne so di cibi a caso io scarseggio un po' di carne sono tre pezzi io ho fatto già un letto e mi setto lo sponso io ti andrei a prendere quella m**a di roba si con la mia roba che bello basalto basalto tanto mi so settato lo sponso ma perché? ma perché usiamo i fornali? va bene ne faccio un altro ma così noi facciamo i cosi i stone bricks e poi noi facciamo stone bricks ma ci stanno miliardi di blocchi aspetta no miliardi di blocchi no aspetta oh vabbè i stone bricks sono la scelta migliore poi amento si la metti qua e qua stone bricks potresti fare tipo stone brick e pezzi di copri sto stondo perché mi riempi la fornace cristo dio tu sei frocio o cosa? hai dato ho fatto altri 4 fornace ho fatto i miei 27 fornace no ma se posso mi si è levato lo sponso ma che cazzo dici? e tu fai i slash 7 spawn no spawn point prendo un po' di gobblist non ti sei levato lo sponso oh c'è un altro semi semi ma vodex che sta facendo? c'è che sta facendo? è su black ops 3 ah beh guarda il soldi c'è abbiamo una mini farm lì io sto senza nafta non c'ho il carbone cristo che palle io c'ho la spalla in pistacchio oh ci sta un creeper creeper in creeper yeah super che è successo? stava esplodendo un creeper non stava esplodendo l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso pure io ma che ti dici? ah mi stai esplodendo un altro magari max lo sai dove si trova il vulcano? no ah si verso di là ok vai sempre verso di là aspetta mi faccio una cazzo di armatura che è che mi ha preso? hai preso te la cobblestone? si ho preso 1-2 ma che fessi su un giro minchia c'ho 12 semi vai tutte piantate eh si però fai tanto fa la roba che fanno fanno c'è già curato tutto su un bix creeper tu vieni qua da me vai semi no terrorismo c'è solo un cecchino eh ci stanno dov'è il cecchino? mi fa me il quick vai fai il quick vai quic quickscopalo ha fatto la piantagione con quanti tanti g siamo in due ma non ho capito perché due ha scritto allora fanculo la gente si defoca e non c'ho ancora il carbone ma sono rincoglionito o cosa? se trovo la fornace occupata è un cazzo non vorrei sprecare questo carbone ma che cazzo? eh questo è un attimo momento approviato però guardate sta video che è? che cazzo? che cazzo? lol lol perché? adesso Takata mi spieghi perché perché? esistono dispositivi di registrazione anche dall'Xbox mi pare no? cazzo c'è un Xbox oh sentito uno stronzo dietro di me? quel è io ecco qui ci mi accolo oh c'è andato ad essere un creeper oh ciao slime che cazzo ha fatto questo? no questi eh? non lo so però l'ho appena ucciso guarda ora ora faccio una cosa molto intelligente che è carbonato pom 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 però un po no io poi sto video me lo vedo non sta anche il 56 di Stonbrix Stonbrix mi invita ad avere un po' di gente ma io non ho manco spammato live lo sai? no non l'hai spammata cosa hai detto? e c'era la gente chi cazzo è che mi spara? è vero a me c'è un villager zoom oh creeper creeper si basta che non stacchi gli albi basta gli albi oh ti senti il mouse mio che vuoi ripar gigler mouse mio che linguevo parlando? senti senti oh stai calmati qualcuno ha spammato live su telegram c'è un po' eh 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 l'unico 15 due armi non ci sono aspetta già che c'è stato ma eh ho sbagliato qui che caccio quello dai ma che cristo oh questo buco aspetta nel tuo gruppo telegram eh mi stanno seguendo un'orda di stronzi che mi proteggeresti? fai una piccola donazione per me no per me eh vabbè è arrivato il cecchino porco oh mezzo cuore ma che cazzo se ne era accorto? ah sono spawnato qui ah ma cristo penso che devo iniziare a farmi l'armatura io proprio ho fatto via anzi bisognebbe costruire due muri di casa almeno eh magari perchè mi fotti la carbonella? eh l'ho fatta apposta dovevi sentire eh perchè mi hai fottuto pure le torce? eh io non te l'ho fottuto no no lo usate tutte sicuro è un coglione eh zombie qui max appena finisco anzi appena sarà giorno in questo nel mondo di minecraft e vulcano non ci sarà più ah ok perfetto questo è il vq delle grama pro demolizione e trasporti mino senti io vado in caverna vi fottete zoom di merda oh casa però magari eh staccato è meh senti ma se mi metto a spammare adesso live lo so che è un po' tardi però no vabbè non trovo un altro ritmo c'è un'ora non ho chiamato un cazzo di nessuno siamo fissi in due spettatori c'è un'ora e tredici che stiamo esatto non ho chiamato ma tu 720 e 60 fps non ho chiamato come 720 e 60? 1080 e 60 grandi che ha sganciato il pollicione perchè la live si chiama youtube slash 7 fine 3 y n r di tipo nerdi questo è un brutto segno questo è un brutto segno ma chi è che c'è il motore che è sotto casa? e io prrrrrrrrrrr apriera il motore bot un quarto del vulcano è andato perfetto un zumbiniacco l'ho mandato pure tuo viniacco guarda dove hai uscito hai uscito dalla lava solo per spararmi la freccia forse magari arriverà qualche altro utente perché mi sono ricordato adesso di spammare è che prima non lo spammate eravamo in 4 ok io devo scavare tutto tutto quello che vedo non faccio branch mini non so manco dov'è a casa tua fino a io finché non la vedo non lo so mi puoi dire anche che ha le coordinate ma non lo so se non lo so non lo so che cazzo qua non potrò mai spammare i mob ma se mi metto anch'io farei branch mini aspetta no a che livello è il diamante 12 devo salire per poter restare l'undici devo prendere sì ma so dal 2 io sai com'è almeno qui mi fa una palla oh redstone 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 che è sto a air livello 12 che è ma che fa cazzo ah devo pure cuocerla oh rubino 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 che è per farmi quattro stacche di basalto che palle che ci regali un po' di basalto oh te n'affanculo dai mi servono quattro stacche a me che palle ma non hai detto che sei montato metà montagna non te n'affanculo mi serve a me che palle che sei però eh per maloso oh ognuno fa le cose come vuole veniamo a vivere con noi allora oh e mo se non trovo il diamante la bestemmia parte no perché io ne ho già trovati 5 non ne voglio usare allora eh io non c'è con l'altro ne ho trovati 2 si è fatto la spada in diamante che idiota genius proprio poteva aspettare poteva aspettarne 6 come me come farò io yeee ho trovato una caverna di nuovo che palle ste caverne è la terza no che non sto felice vuole il diamante no le caverne magari se vuole il diamante in caverna allora ho tante cose oh intanto c'ho occasioni minerali eh spugacci sopra tanto oro ma comunque anche se qua non si può graffare l'apica di sgrestone fa lo stesso effetto qua c'è petrolio qua sopra qui so dove mi trovo ho finito il piccone tre quarti ma madonna ma il miglioro non so perché ma il miglioro non so perché donati 2 euro mi ammazzo fa lucrare per far muovere per miglio non ho capito una sega non ha 3 euro per miglio così sei pura esatto sono le mie presepe per che vuole l'accounted max ho trovato altro petrolio e vabbè vabbè si continua a rispondere sta caverna potrebbe fare la punta vellorium digerator creeper molto incazzato ma è che ti canzai tu eh? chi è che diceva incazzato? come si chiama? è giuca eh? giuca non diceva incazzato no c'è un attore guarda gli stifroci ah incazzato come si chiama? eh l'ho capito che intendi non mi ne manca mai il nome gloria ha fatto io non sono il pion e nemmeno fa su e sono il commissario e ti faccio un culo ma buco eh diciamo di ma pensavo di aver trovato un altro spawner beh volevi eh intanto ne ho trovato uno ho trovato una caverna ho trovato il culo il pupastrello ci vuole pupastrello ci vuole pupastrello oh quazzo 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 cazzo quarto cazzo quazzo quazzo quarto cazzo non ti segui no quindi fai te ah max su manola 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 alla fine si è fatta suona no come era no c'era una canzone oh cecchino ma va era una canzone sniper ora vengo da nolla sono una figlia di una mandola ma ecco sono minorenne in live ma ti siamo scusa? uno spettatore quindi presumo che siete ai giochi perfetto sei minorenne sei minorenne vero? si ma vai esci dentro io ma sta caverna è impossibile ma stai vedendo la live vero? cristo ma è la storia aspetta ma vedi? dio buono ma sta mettere su tanto torce eh si che sto mettere su tanto torce non voglio i cagacazzi tipo il creeper tipo sto figlio di una puttana che tiene un affanculo dio buono e mo ci muoio pure oh ma il cazzo dio buono ma sto enderman che passa qui? quando mi sarebbe un bel arco non c'è mai ma mo gli arrivo in fronte a sto scema vaffanculo direi che sto fa io mazzo porco schifo ma ci muoio muoio no non mi hai fatto un cazzo ma gli arrivo da sopra a sto scema ho fatto 3 gigabyte dedicati sopra a sto modpack quanto? 3 giga porco no veramente oh guarda dove lanciare frecce sto scemo cristo dio tre cuore e mezzo per un merdone nel cazzo siamo rimasti in uno carbone cos'è che si potrebbe fare di macchinari ma è oltre adesso che smino che si inizia a fare la casa ma cosa? ho fatto già la casa piccoletto però è schifo sicuro si è un po' di merda però però niente in realtà no ah vabbè allora quella là la mia ecco la mia diciamo capiti non lo prendo da dietro sto scemo infame guardalo ce ne sta un altro porco vaffanculo c'ha l'amico c'ha per l'amica si vabbè quanto è storto quello lì manco fosse perde mi dò manco fosse grappinger quanto è storto lì mi dò è morto in coma oh è c***o è stanto in esterno al giorno di casa ero prendo sì certo sei sicuro che c'erbe ho trovato zaffiro buono 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 il suo petrone è un po' scassato di quei tre quarti ci sono un po' l'invocazione di Gesù Cristo in questa caverna spiega perché c'è sta cosa qua mi dò ma se torno su tipo meno male da sta caverna cazzo un paio di diamanti volevo non è che ti devo tanto no la caverna è intera di minerali Cristo eh vabbè se non c'è so non c'è so non c'è so lo hanno preso mette intaggela intaggela giga 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 lo cadete cadete Ma è possibile? Cado per sbaglio e trovo le caverne Un'ottima fish area Buongior finestra Ok Da qui sono arrivato sicuro Da qui Mamma mia che brutto Cos'esplosoli Ah niente Esplicemente non ci sta le docce Eccomi Eccoti Sto tornando su io eh C'ho pure i zaffiri Buon notte Eh lo so Ok me la posso fare un'armatura in In fragola Cosa si? Cosa si Penso vi ho detto Ciao creeper Dove sarebbe casa tua scusa? Che hai detto che hai costruito casa? Questa Ah Ah Poi faccio il piano terra Per i macchinari Questo qua Ah vabbè E' piccolina A me serve Un capannone minimo Io faccio il piano terra Per i macchinari Io faccio un capannone Io faccio un capannone Però ci sta l'idea tipo di nasconderla così Un po' in mezzo alla terra La vedi la montagna quella dietro? Eh Ecco Probabilmente Voleo fare il magazzino io Com'è tua? Nooo Nooo Seriamente Cosa? Vecino alla palude La zona paludosa No no La montagna della casa di cosa? No allora te ne affanculo Ah quella lì Si la vedo la palude Eh lì si è cominciato io Eh stiamo abitando tutti vicino in pratica No io volevo fare Sì se vedi tu che hai tutto tornato Mito guardami Sì lo so che bene Eh io volevo rendere questa montagna casa mia Cioè in senso che ci ha abitato in mezzo Eh no lo fa il magazzino qua Ah Che figo Beh allora tu No no se vuoi prendi te non c'è un problema No no io vado più lontano Che sennò faccio lager in server Stavo ridi faccio la cesta No no non possiamo stare tutti attaccati No io ci muoio Io ci muoio Io ci muoio Canto fammi prendere Oh chi tocca la mia cesta è morto E' bannato per me la TS Anche se non c'è una minchia Ehm 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 Max aiuto qua Eh arrivo Eh mi cerco una montagna Vediamo 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 Un posto che andiamo in binari No Un giorno a casa allora Facciamo un passaggio Tipo una metro facciamo Ma ci stanno i binari qua Ah boh Vorrebbero Sì in teoria ci stanno Un po' vorrei dire io addirittura Sai che ti dico Ho visto che ci stanno i binari Io faccio un bel binario che va sotto terra e arriva a casa mia Vabbè Vabbè No però dobbiamo fare quasi tutte le case vicino eh Mmm Sì che meglio Così poi non ci mettiamo niente Eh Colleghiamo tutto i binari Sì No vabbè No F9 F9 Giusto la mia casa la faccio a Chunkri Sì però devo farla di giorno io perché sennò muoio Sì Cristo facciamo sti cazziglietti Per tutti Io uno ce l'ho fatto E' mio Ecco la mia lana Cristo Ho trovato un altro portale Sto esplorando Sto esplorando Sto esplorando Sto esplorando Ah io ho finito la carne comunque Portale Questa diventa P3 Ok abbiamo il terzo portale P1 P2 P3 Anche il quarto in teoria Questa potrebbe essere una bella zona C'è la lava sotto Bello LOL LOL Oh frocio che cazzo mi spingi? Ma dio bono Raga questo uccidi mob Ma perché sei uscito? Perché sono invaso da mob Eh? Vaso da mob Sto per morire anch'io Che spada ho preso? Cazzo ma si può mettere giorno? Per una volta Per una volta Però niente E' un suo padre Non mi vado a aprire Questa la notte E' che padre Devo stare tutta la notte chiuso qui in questo buco Oh preferivo rimanere chiuso Oh Ahiaiaiaiaiaia Morto Eh Mo va a riprenderla la mia roba Cristo, Dio Io farò la gara del server che di cosa è comunque questo Puoi venire con me Perché sennò succede un casino Continuo morendo Prodizio un coso di mob Ma che hai mito il morbo? Che visto? Devo rimanere sigillato Siamo morti noi, Minecraft non è lui, spero lui è morto su T.S. E che cazzo di Creeper? Oh, sta tornando un giorno, mi sa. Dai, fra pochi giorni. Sì, mi sto facendo spianare la terra dei Creeper. Oh, senti, non ho voglia di spianare. Oh, sono dei spawnati, Cristo Dio, meno male. Feroci. Sprende, allora, così non riveliamo. Riveliamo? Quando muori, quando muori, perdi riveli, idiota. No, però se non muori, dì. Eh, ho 3 ciglielli, uno 6. Ma arriva tu a non morire contro 24 Creeper. Io avevo 5 zombie che mi sono entrati nel buco. Cristo. Ho un altro Creeper Creeper. No, sta purtroppo vicino a casa, non mi piace nientro. Non mi piace sta montagna, ci sono morotto dentro, quindi non ci voglio più stare. Scusi. Va che bello, va che bello, qua è tutto spianato, qua ci sta casa mia, è tutto spianato. E ci sta il mare, l'oceano. Bellissimo, la bella vita vista mare. Io mi sto tratteggiando già a casa, ti dico. Mi stai tratteggiando? Sì, però... Adesso è un po' lontano da voi, comunque. E adesso mi crafto il filo e la fa cura. Io la chiamo Fabricuzza. Ho chiamato a Fabri Barchetta, Fabrichetta. Questa cosa diventerà casa, si può chiamare casa. Non c'è il carrellino da trasporto per le ceste, no, eh? No, ancora. Come ti si chiamava? Barry. Barry Allen. Barry Allen. Ok, ora mi devo... Tag. Vengo a prendere la mia roba. Ma posso togliere il death point? Così che non serve. Io ho disabilità del cosiddetto. Eh, così non sai dove muori. Perfetto. Per favore, dittimi che avete un po' di carte. Ah, ma qua c'è un casino di cose di mucca. Eh, mucca. 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 Muuu. Le mucche fanno mu, ma una fa mu. Le mucche fanno mu. Ma una fa mucca. 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 Ma una fa mucca mucca. Oh, guarda la gente che è entrata. Ma... Ma chi ci sta a guardare la live di Max? Io! Se mi devi rispondere, scrivi qua. Perché non mi carica la live. Posso entrare. Dove? Dove serve il Minecraft. Ma a parte che mi... Come minchia stanno scrivendo che sono... Che mi dice sono uno spettatore. Però dettaglio. Quanti spettatori dà? Ah, voi quanti spettatori dà? Scusa... Cerca la pagina. Oh. Cosa è che mi piace il riparcare? Mucca! Porca la mucca! E' un'ora e mezza. E' un'ora e mezza. Un'ora e mezza? Buono qui, questo sei mio Buono non c'ho più stone bricks Hihihi, che culo Ma hai rubato tutta me la stone, cristo Chi è che me l'ha preso di stone bricks? Ma hai rubato tutta la stone Ah, comunque Sta a 200 metri da casa tua, da casa mia Eccomi Sì Guarda la merda che c'è qui dentro Sì Che Pasqua Vedi che non c'è nessuno in live Perché non sta scrivendo New white Wow, one text Sì però magari ti ha spammato i siti di guerra Esatto Su siti web Sui social Guarda che casalezza Io ho fatto una casalina Dopo viene vedere la mia Ma non puoi prendere la roba in furia Ma non puoi prendere la roba in furia Eeeh Ma stone qua ce l'hai dentro Quattro pezzi Ma io faccio così, prendo tutto l'inventario e mi trasferisco proprio l'ignoranza Ma che so Eh Fai due due col Mi serve due di cola e basta Eh Ce l'avrei Eh no mi serve il col Eh vieni qua A casa di... giochi Eh mi servono proprio due pezzi Tota Poi Tutti tuoi Che cazzo vuole sto ragno? Chi fa i cazzi tuoi? Oddio con lascia Lascia Adesso Aspetta 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 Momento 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 Gioche mi serve un attimo Teorie quantistiche Delle ceste Cosa? Giochei? Eh cosa? Mi serve un attimo teorie quantistiche della ceste Se io Ho la metà sopra Il pieno della ceste Qua il cazzo di parte devo spaccare Perché non mi sia... non mi si svuote Eh non fai prima a fa così Come mi ha detto te Eh c'è l'inventario pieno Vai torno e senti torno dopo va Eh penso qua aspetta No no non fai niente Torno dopo Come fottere la carne Il giorno ce ne ho poco Com'è che si craftava il filler di merda? Il filler di merda Il filler di merda Figaro 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 Ci vuole troppa roba 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 Ci vuole inc-sac In-sac In-sac Si Se voi vedete a vedere casa mia C'era una zona benissimo Stasera venite a dormire a casa mia eh C'era da casa mia Ehm La foto Ed NOT Ehm Al hair Un rumore Quale Un rumore Io verso leo sono quasi le quattro, adesso quasi le cinque mi sa che potrei anche staccare Ah genius, sei riuscita a calcolare la cesta giusta Posso rubare il mio a testa? No, vabbè prenditela Un po' di alberi me li foto se permetti Tu prendi tutti magari, povero me Gli ho piazzati io, sai come Abbiamo un problema, mi c'entro l'ho in inventario Ah sì, due slot ce li ho Cosa ci sono entrati? Boh, ne ho preso uno Ma spawnano un po' a random sti alberi Vabbè No, te li lascio rire alla fine No, vuole quelli rosa, vuole quelli rosa C'è una bella rosa Io ce li ho inventari ultimi Vai, torno più tardi se vuoi che ti tagli gli alberi No, a me servono di lasciare soltanto più di rubber Ah, quella rosa ce l'ho davanti a casa Quello di rubber mi servirebbe anche a me Vabbè Dopo, dopo No, per tu devi ripiazzare quelli di rubber Sì, ma io li ripiazzo quelli di rubber Poi passano nel stack home Qua ci sta uno rosa Un rosa, uno viola Non si capisce un cazzo E io li pianto tipo qua VACCA, vieni qua Guarda là che bella zona che c'è dove fare casa Tutto spianato Tutto liscio Nel FIT Al FIT 3 Cosa? Cosa è il FIT 3? Portale 3 Guarda, è già cresciuto la... No, vabbè Guarda, è stato adoro Ok C'è un generatore di cobblestone? Automatico? O no? Devo cercare un blocco per fare casa Figo Cazzo, se Milo non ha svuotato il vulcano Un po' ne ho pigia No, non l'ho ancora svuotato il vulcano Purtroppo Non del tutto Meno male Un c'ho lo vedo messo male Ah no, ma è ancora intero un bel po' Sì, ma dietro ho incominciato io Ah, dietro La riscavo da davanti Tanto poi quella lava si usa per fare combustibile Che senza idea Ma io appena finisco quei blocchi ci metto un cuore Ma perché hai detto che ne servono 4? Ah, perché tu li mettevi insieme quando poti Sì Per fare i brick Sì, mi servono i brick Sono belli resistenti i brick di basalto Sono quasi finiti i blocchi quindi dobbiamo iniziare a craftare il bel cover Cazzo, ma non è possibile che sempre notte Qua inizia a fare qualcosa è sempre notte Oh, un altro stack me lo piglio io Cazzo, se qual'altro mi ruba la cobblest Io uso il basalto Se c'è un attimo che mi sono al telefono Arrivo subito, eh Grazie a tutti Che fai esci dalla canina? Che fai? Io sono zombie fuori, fa un cuolo che pezzo dico è morto Dio bono minchia che palle minchia che palle veramente veramente bisogna farsi il buco anti fk oh ma limone vedi di morire eh? eh? credo come andiamo a chiamare il telefono oh sì c'è meno il tuo cazzo si figa che è il coglione che mi sta stuprando? ah i palle uno zombie mi spacca la porta ha fatto la rinforzata cosa fa? eh ti hai fatto i macchinari stavo vai più avanti la rinforzata c'è tipo con lo steal col den door ah i zombie non possono sempre se volete non voglio niente non compro nulla la stampa è diritto ah devo correre devo correre che palle non compro niente tu qua le rotanti guardami i palle è un buco è un buco si vola immaginario che solamente faccio dentro vaffanculo ti è? si torcia così a casa mia ti è? ogni due centimetri una torcia dio bono non mi rompete il cazzo il lavoro del bugio ogni due centimetri no ma che cazzo spano ogni due centimetri sti stronzi vabbè mia madre cercava di chiamarmi su whatsapp mi dice c'è una connessione di merda mi dice scrivimi gli ho scritto e non gli arriva un messaggio e allora che cazzo che devo fare? ancora c'è cosa mia? ti è una faccura tu tieni sempre le mie fornacido incredibile ma che è che è rimasto là? nessuno manco white merda è rimasto tu a fare si fa carbonella l'armatura io voglio farmi la nano switch se c'è se no sti cazzi se no mi devo inculare ci sono i backpack ma dai i backpack ma dai i big backpack i big party oh per co vaffanculo vaffanculo voglio fare i mega big backpack voglio fare i grandi big backpack voglio fare iamic vaffanculo 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 no no vaffanculo o che cosa mi hao vaffanculo Che sta facendo a un robot? Sto a fare un robot 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 Ho due tunted C'hai il ragnatele per caso? Eh? Gefranco? No Attentilo Devo andare a ammazzare un po' di ragni Perché è ancora notte Picchio i ragni Ragno Testa di cagno Ragno Ti tiro un po' a pagno Arragno Un culo te lo metto E vabbè l'arco incantato ci abbiamo Grande Si picchiano da soli Un computer Un computer Parfaculo Ciao Cripa Sai che si chiama Cripa? Perché Cripa? Cosa ride fai eh? Eh? Cosa ride fai? Esatto Tre ragnatele Mamma mia Lo schifo Ma ne saranno come minimo tantissimo Non c'è Non c'è un minimo Eh? Ci stanno a spawnare di ragni No eh? Così per sbaglio Almeno se fosse stato i ragni C'è un bioma assai misterioso qui Sto facendo laggare tutto Ah questo è un bioma di slime Ah questo è un bioma di slime In torino Sì ho messo il bioma Sì ho messo il bioma Maxo Eh? Per fare il deep dark portal serve una cosa bruttissima Cioè Una stablingote Che palle Le cose che esplodono No Quelli dopo 10 secondi esplodono Sì E poi serve la triple compress Che palle Eh la triple compress Tu quando ne serve una? No Ne servono uno Due Tre Quattro Cinque Quello non è tanto un problema Il deep storage Lo voglio Ho il cacao io Cacao Cacao Cibo Ma io sono pieno di cibo No Anche alle 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 Ma in realtà sono le mucche Quante mucche Tante mucche Tante mucche Tante mucche Tante mucche Qui ne sono Sfile Tante mucche Che loro Circa Cicola Ah tranquillo Di Anche al minuto Oh Cicola solo Cicola solo La Nutella A me Circa Quando premere il tasto Di più P le ragnatele mi servono dio buono allora quant'è che me ne servono? 8 pezzi per cui 2 già ce le ho 6 per 2 12 mancava un ultimo pezzo ce l'avete ragnatele? oh non era dio franco ah raga 3 pezzi di diamanti 3 pezzi di diamanti? sai che ne spiegati 2 per farla spada? l'avevamo detto che ti sarebbero serviti adesso il bambiniero hai fili? o lana? anche lana lana posso fare il pulverizer con la lana mamma è tanta roba tanta roba tantissima roba intanto in live ci sono una persona ma adesso ho già sentito io ho fatto la turtle la turtle anche tu con la turtle ma va la mi serve uno dei diamanti buongiorno ah intruso chi è? staremo in live ok allora vado se hai fili allora puoi rimanere mi servono i fili dio buono e uno a due eh me lo servono mi sembra che perchè sta sopra perchè sta fatta azzan per sopra gli altri pfff io ho fatta azzan perchè ho ucciso le mucche mi servavano i fili mi sono capitato in questo bioma ecco perchè sta fatta azzan guarda la mucca che si muove fierissima non sapendo che verrà uscita oddio ma che coordinate sto guarda fiero proprio stavo a 666 di altezza sto a 666 di altezza 66,62 ho spiesto male oh lì c'è qualcosa che non mi piace giustamente io vado nelle cose che non mi piacciono giustamente io vado nelle cose che non mi piacciono un pallone c'è senso viduo per caso è un polverizer nooo sto incominciando a craft army infatti a 666 a medio a 666 dai che palle veramente no raga c'è un problema eh quale quale per favore chi viene a casa mia scende per la grotta entra dentro della casa entra dentro della casa entra dentro del buco mi porta alla crafting table eh uu io sto a 3 km da casa tu ahhh hai aperto nel legno perchè se ero andato a cercare delle mele e ho sfasciato le mele le mele quindi ho 20 stack ho 20 stack ho 20 stack seria? di legno? si che gli ero aprisa erano scritto boi oh chi va chi va dove? ma dove è la caverna? scusate è intertrogato di di fugo non so come dirlo ma io sto a 400 metri da voi eh si trovato io io sto quasi 500 metri da voi ma dove lo sbocco che ti ammazza? ok via via io entro qua vieni poi un'altra cosa da genere ti ammazza che ha fatto? mi ha fatto un buco dove io non vedevo l'acqua perchè non me l'aveva ancora applicata mi ha preso lo sbocco mi ha preso lo sbocco mi ha preso lo sbocco e come salgo adesso? e come salgo adesso? e come salgo adesso? i blocchi ti infine una corda in culo ho droppati stanno dietro che palle voglio il ragnatele la notte che rompono i coglioni piu 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 ti ragno piu piu che cazzo non sono i ragni quelli ma che so vabbè i i cecchini le scale naturali ci sono oh dai no ma dove cazzo sono? no sono nel primo mar della neve serio dai cercavo di stavo cercando di tornare a casa cristo ma intanto sto spionando io 4 4 qualcuno dopo mi può tippare vero? spero che qualcuno mi tippi dopo io manco so dove sono io pecore non ho ferro dietro non ho ferro dietro che trovo qui devo ammazzare per forza tutte mi spiace mi serve il filo grazie a sto mongolo ho trovato una miniera piena di certo squarze ah sto mongolo no mi ha fatto venire lo sbocco però non ho ferro intanto io c'ho letto eh ok vuoi di fartelo anche te a Milo il letto ma io sto cercando capri però non lo trovo ma ci hai visto lo specchio oh oh te lo fa potevi dire a peco non vi c'ha detto capri ahahah ti ha detto che tu sei un montone di merda ahahah montone Domina cosa monto? Sì, sì, contaci Ecco Zio caro Olè, si righiaccia tutto Vabbè Quale cazzo salgo? Fortuna che ho le mele Diamanti, vieni da paparino Mi sono perso io raga Sono tre diamanti, ne me ne servo un Mi sono perso C'è casa mia sta lì Oh Cristo Certo che è un mondo strano sto qui Certo che è un mondo più strano non potevi metterlo Mi ha caricato automaticamente È stranissimo sto mondo Mi ha caricato il servo Però è bellissimo È bello È bello, c'è l'oceano E poi c'è Dopo l'oceano c'è Un'isola di neve Ma praticamente è esploda tutta la mia zona La pistazio Aspetta Aspetta Cosa vuol dire quello? Guarda in live Guarda Perché quello si è illuminato? Cosa Cosa vuol dire? Cosa si è illuminato? Si è illuminato il waypoint che ho messo sul portale Faccio È automatico eh Se io vado avanti A 1,26 1,26 metri Perché? Facci No c'è qualcosa qua Sicuro Perché si sarebbe illuminato? Ma io si crea qui un portale Che ne so Boh O è un bug Yeee Due giri perché mi aspettano a casa Vedete qua Bravi Tutti due in acqua Non t'avamo trovato però a live Buh Non fino ai 5 Poi 5 vado Ah è così che sto scrivendo Due ore adesso nel live Eh vabbè ho scritto A Mi ha paura Mi stavo piegando in mano Dormiamo per favore Eh io sono minato Che pari Quello non ha letto Eh quello non ha letto Però non si possono fare gli alberi No Mi è venuto in culo Sì Ho sentito ho sentito Noi devi mi ringhi dietro Sto stronzo Un altro Ho tutto il cazzo Però Sì ragni No No Creepo or not Non fa il culo Mi Striga Mamma Sua La camera Devo Dov'è la luna? No Sì Sì Vabbè Siamo solo a metanotte Sti cazzi Tu non mi devi No per cazzo Capito Pure tu Cassa palle Se ho bisogno di voi C'è lo spawner C'è uno fiero C'è un cecchino Col casco C'è l'infiltra Ah va Cazzo Cheat Non sarebbe una cattività A cuocere sta cosa Oh Non va dentro Il carbone Un attimo Eh che cazzo Eh Un attimo Non va dentro Non mi ho visto C'è un creeper Che mi fissa Non viene qua Menomani Proviamo ad entrare Nel portale In uno dei portali Provo l'armatore Ti dico solo una cosa Se muori Mi sa che rimani Di dentro Anche io da lì Non muori Se non guardi i muri Se non guardi i muri Non muori Per cui Se guardi i muri Che succede? Eh Inizia a sentire Enderman L'allucinazione Andiamo Se lo voglio Però se Se riesci Tipo A uscire da lì Ti hanno Valanghi di Minerali Metriamo Aspettatemi Fatemi Se mi ricordo Se mi ricordo Sto a sto farci Per favore Dai Max Andriamoci Sì Aspettatemi Magari Sì La spada mezza rotta Eh Fammi preparare il cibo E tutta Allora Devo farci L'armatura Fammi fare un'altra spada Io con il diamante No io mi faccio sempre sicurezza La spada Un'altra spada Un'altra piccola Grazie Esco da qua Da qua Un altro piccola Un'altra sicurezza Non si sa mai Aspetta Poi su tutti i minerali Che c'hanno Faccio L'armatura Oh potremmo andare No aspetta Ma mazzo Eh Mi devo fare l'armatura Infatti anche devo fare l'armatura Lo siete sul caso Io per l'armatura Per avere cecola Eh ma faccio un fermo Eh ma è spattola l'armatura Sì Poi ti trovi qualcosa dietro al culo Poi ne riparliamo Io non ti ci paro Grazie Molto gentile Aspetta di strassare Non va fuori Puoi in teoria tutto Cioè non mi serve un'armatura Eh Come ne faccio dell'ammatura Cioè dovrei stare a cuocere i minerali L'ammatura 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 sì ma faccio Aspetta un attimo che devo vedere se piove Eh ma come faccio? Ma arrivo uno stronzo e uccide sicuro Spero mi scavo tutti perdi Perché questa cosa è una palla in ferro? Hai una eh Anzi un attimo vedete cosa succede fuori Minchia Pensavo stesse per piovere Che mi posso disintanare Per quello c'ho C'ho un giga e 36 Occupato di mare ramme su 3 e 25 3 e 25 3 e 25 Io c'ho 8 giga occupati quasi 7 e 87 Quanti giga fatti c'ho dentro il compito? 16 Io ho 8 C'ho quasi la metà piena Pensi più quanta ramme c'ho occupata? 7 e 88 piene c'ho Eh? Io c'ho 4 Non dobbè ne fa ancora Ma pensi più quanta ramme occupata c'ho io? Eh secondo me controllo alt cancio e gestione attività Controlli? Controllo alt cancio e gestione attività Me lo sono pure salvato quindi Basta che premo sotto Cioè mi sono salvato sotto l'icona Poi dove andà? No Memoria che è Per cento E più dice una per cento Disco Cento Redditor Ho un'armatura in cosa me la faccio? Quando arriva al cento per cento che fa? Si spegne il computer No Dai è più bello il minimo Ti esplode il computer E' più bello il minimo Poi non si accede più Si riaccende Si che si riaccende La memoria flash Eh? La memoria flash si riaccende si Un'armatura in ferro come mi dicevate di fare Poi per esempio Quando riaccendi il computer La memoria ramme si è stata Ma io la posso fare anche in rubino Scusate l'armatura No ragazzi mi è interessato Dio Il computer Quando c'hai poi Poi la memoria si è stata Quando c'è l'armatura Sì Sì Scusate Io mi faccio Non si può fare l'armatura Solo attrezzi Non me la faccio l'armatura Dai dai Max io sono pronto per andarci Eh no io ancora non provo Io c'ho tre spade Una a metà Due spade in mezzo anzi Io mi parco un legno mangio Eh è importante la prudenza Eh aspettate che è poco Eh? Dove sei la Max? Dove sei la Max? Guarda un po' di minerali Sto a casa mia Eh dove cazzo è a casa tua? Eh Trovami Ma raga io aspetto Dove faccio una tutta Eh giocche dovrebbe saperlo Vero? No non lo so Che? No raga io c'ho il ferro dentro Questa in mezzo sta Rubato? Eh cosa? Scusate Cosa scusa? No in realtà me lo sei rubato Mi hanno rubato un cazzo Scusate Io non sono vicinato Sono sceso solo per darti il legno Poi è bruttato lui Mi ha fatto risalire No io uso il ferro che c'ho Ma c**o c'è anche baggardo Mi do Ma non so dov'è Ma non so dov'è Ma non so dov'è C'è il vulcano Se ti scrivo Allora sto a 102 Ho capito Ho capito 102 246 65 102 246 102 246 Mi sto sempre più allontanando da quel numero Ma vabbè Oh adesso sei barcollante Mica colpa lì Hai detto vicino al vulcano vero? No Dall'altro lato Dall'altro lato? Te ne affanculo Io mi sto avvicinando al vulcano Eh Vabbè Sul vulcano Ho il death point Tu dal vulcano Come te lo spiego Dal vulcano Vedo che hai scavato qua Vedo che hai scavato su Sì sì Ho scavato Ecco Quando sta a 200 metri Zingari di merta Fanculo Muori Rubo la lana Sfugata Merta Qua diventa 300 200 Oh Sono quasi al death point Eh Sono quasi arrivato Eh mi vedi? Sono vulcano No non ti vedo Crocio Sono davanti a te E davanti Raga io ne presto un po' di cerro Ma armatura Iiii No l'esplosione creeper Del San Crosmo Facci su Sono davanti a 4 chunk Cosa credi che Sia davanti a me? Che ne so Io ho 8 Allee Le prego delle risposte Sei lontano Perché ho ancora attivato Il po' di chunk Io le t'erano sempre attivati Ho perso adesso Ah no Ho visto la mucca Morire malamente Non mi hai perso Cioè va che cazzo di spiano Che bellissimo Uno ci farebbe una casa Il mio era più bello Io me lo sono fatto a mano Cosa è qualcosa di viola Non mi rubare il coso viola Mi restate il ferro Eh ne ho poco Sto facendo l'armatura Vai in casa mia e cerca C'era Io quello che vuoi Che ti serve Quale cazzo dove l'ha valuta Sì Max guarda l'assortimento Bellissimo Non l'ho fatta a casa mia No No io ci sono queste due No mi serve quella di ferro Non faccio strumenti di ferro E' in più Deci bistecche Anche tu col basato Ma io devo prendere Il filler di merda Però mi serve una cazzo di merda Ma il filler non Ah se lo metti in modalità scavo Lei scava Ma che scavo Mi serve per Per posteruire Ah per posteruire Fa come vuoi E' lì il portale E' lì il portale comunque Si è aspettato Ma questa è la farmatura Lì è uno dei portali Perché sono tanti i portali Ma ce ne sono due Prima quello che trovo Ce n'è anche uno Non mi ricordo dove Allora lì Lì c'è il death point Lì c'è il casolare Qua c'è la fabbrica Lì c'è il cristo dio Spawner P1 P2 Faglia P3 Maxo grazie a te Ho trovato anche il cazzo Di ink sack Perché? Vedi qua meduse di merda Meduse di merda Ma è pieno qui dietro Casa mia Sai com'è sto all'oceano Ink sack Di casack Vuol dire filler In casack No ci muoio Possiamo andare? Aspettiamo giochi Aspettiamo giochi Che cosa? E lei non c'è stato nessuno Perché sono una nuova spada? Clay Maxo vattene affanculo E ti scavado tutto quello che c'è In paesaggi No E' mio Zona mia A me mi serve soltanto cibo Chi è che c'è cibo? Io c'ho cibo Quello che mi serve a me Io c'ho solo due cibi steak Ci vediamo tutti quanti a casa di video Ma perché a casa mia scusa? Perché quella più grande? Tutti benvenuti alla casa blu Non è blu però è nera? Ma perché andiamo? Vediamoci al vulcano Brutti e dietro C'è un portale No ragazzi io non posso Che c'è una Samuride power Allora c'è un portale vicino a io Maxo Quello che hai chiuso con la porta Eh Aspetta ti lascio la Mi serve due cose qua Che dopo Eh bravo da Tanto quella cesta è vuota Dai andiamo Andiamo Quindi cazzo mia Maxo vieni da parte a casa di mia Ho 29 bistec Io Io sto a casa di mie Io ce ne ho 12 29 cotte Quante comunque ho ammazzato Vorrei a me se potresti andare a cibo Eh sì No No Maxo ho 200 blocchi di lontananzata Nel fanco Ma che vuoi? Ho fatto la casa lontana Nella vostra È una bella zona questa Vabbè allora Per scavallarti il petrolio Sotto casa Userò Il Cosa Sì Stavo per caso è uno slum L'ho visto L'ho visto Della minimappa Perché io non riesco a correre Bruttamina Perché tu non premi Due volte la blu Ma se lo aprivo Tantamila volte L'aghi Che cazzo devo dire Ma qualcuno Oh cosso Madonna Guarda quanto il carote Che è sbordato Vuoi un po' di cibo Ti ho la mia carota Ti ha sposto il computer? Ma che cazzo Ti ha sposto l'entrata di casa Vero? No Merda Ti ha sposto l'entrata di casa Vero? Gioco Ok A me o a lui A lui Sì Lui sì Vuoi un po' di carne? Mi date i cibo magari Trovo da lui Perché io ne ho già poco di mio Poi li avevo Rai troppo Max Ho già incominciato la mia base nucleare Lool Piano piano Sono 4 chanker E io c'ho due Ah cosa faccio anch'io la quattro? Ho due spade Guardate Max Eh Anch'io due spade Due spade Due picconi E poi c'ho Quattro stack di goble Due Ma aspetta Anch'io c'ho queste qua E due picconi Io non ho preso il piccone E' vero Merdaccia Quindi ho fatto un altro Per sicurezza Di piccone Io non ho preso Lasciato tutta la merda Che potevo Nooo La pioggia no Togliete la pioggia Per favore Meno questo Non sento più un cazzo Io l'acco con la pioggia Io non sento La parte è quella Entriamo nel portale Ma aspetti Devo prendere i picconi Oh è che palle Che siete Se moriamo tutti Amen Io l'ultima volta Che ci sono entrato Ricordare esplosine atomiche Basta Vabbè Fa buone Mi prendo il piccone In fainstone Ma vabbè Ti do io Con zaffero Vabbè Grazie Oh zaffero Mi hanno ancora fatto strumenti Dai muoviamoci Muoviamoci C'è uno qua Di portale Eh sì Ma devo segnare Guarda che stava Qua tipo Ma è più avanti Aspetta Ah eccolo Lo vedo Posso lo vedo W Ma io non corro Io saltello Perché è stato più veloce Eccolo il portale In effetti Saltellando si va molto più veloce Eh ma dai In tutti i giochi Adesso è un nuovo aggiornamento Di Black Ops Di CS Quando salti Si abbassa Eh sì Uno Entrato Oh no Sapete che si Sapete che si chiude la porta Quando entriamo Spiegate perché ci stanno Delle bocche Delle bocche? Eh Io vedo degli occhi Dove delle bocche? Vabbè Ah sì è giusto Non fissateli Non fissateli Non fissateli Questo Quello è il vostro Quello è il vostro incubo Sono i vostri incubi Sono morto Come sei morto? Ma che è se rumori? Non vedo più nulla E sono gli occhi che ti fissano Non vedo più nulla Sto cadendo nel vuoto No Vido ti ha rapito Eh? Anch'io Ma hanno preso anche me Ma hanno preso anche me Sto cadendo anch'io nel vuoto Però mi è Vido una bocca Ma non vi ci vedo io Oh Sono spawnato Sono spawnato in un regno Eh anch'io È tutto nero vero? Sì È tutto nero Sto ricadendo di nuovo Non devi guardare gli occhi Quello è il problema È impossibile non guardare gli occhi Oh ragazzi c'è l'uscita Io ho l'uscita davanti No 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 Ogni volta che li guardi negli occhi ti ritippano su Ma io non ho guardato gli occhi Ogni volta che guardi negli occhi ti ritippano su Eh però meno Non guardate mai gli occhi No ragazzi Non guardare gli occhi Io non li guardo ma non me li buttano su Macca me Dobbiamo uscire Non è terribile Io ho fatto un po' di blocchi va Una rottura dei guignoni Eh così è regno Non c'è danno da caduta Infatti Posso saltare quanto cazzo voglio Cazzo se ne fotte Raga se vi muovete non vi tippa su Io non sto continuando a scavare Sto scavando Sto scavando Non mi tippa su Potete scavare anche la mano Non mi sta vtippando Se fate finta di giocare normale Non cagate gli occhi Non vi tippa Sì ma da me c'è No Max ho lo schermo in pieno Io che fai Oh merda Guardate un occhio Io ho lo schermo pieno di occhi Tranquilli È solo il suono Ok Ah mi ha tippato Guardato l'occhio Dio buono Poi io prendo stime Però meglio di Ve l'ho detto che non era facile No E il mio blocco Max e i miei blocchi Stanno diventando dei altri Merda Eh Vuol dire che Ti stai L'importante è che tu Quando guardi Se vedi l'occhio Quando si apre Sono cazzi tuoi Ecco Io non ce l'ho visto Tu non lo devi fissare Se vedi Se vedi che ti si apre l'occhio Ti vuole uccidere Oh caso Farà di tutto Per farti morire Ho intravisto l'occhio Però ha chiuso la me Mi ha tippato Perché ho visto l'occhio Che fallo Non so se vedi che ho visto l'occhio Non so come dovrà spegnere il nemat Su un coglione Io sto raccogliendo gli occhi Ma lì si potrebbe fare qualcosa Eeeh no C'ho schermo in tasso di occhi Eh C'ho schermo in tasso di occhi Eh perché più li guardi Più appaiono Io li guardo Oh io c'ero uno solo adesso E va a fanculo Però inquietante sta situazione No raga C'ho schermo in tasso No Oh merda Merda Ce n'ho tre sotto io Corri 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 Merda Dovete scappare dagli occhi In pratica Anche a me mi sta intrasando lo schermo Pi li guardo e più appaiono E' come se li stessi guardando Infatti Io sto scavando verso il basso Non mi hanno più dettifato No No Sono a due di altezza No Ho smesso il rumore A me ha smesso il rumore Anch'io sto scendendo Mi do Corri Tutti sotto Tutti sotto A me ha smesso il rumore E' inquietante Oh 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 Merda ho visto Oh merda Ho smesso il rumore Sì No io sento una cosa E' vero dopo un certo livello Non ti rompo un po' il cazzo Risaliamo Io ho paura Oh merda Però me ha smesso il rumore Oh merda Vedo Però non mi sta Ti parlo sopra Ha smesso il rumore Ha smesso il rumore No no Quel cazzo Dove sei mito Io ce l'ho dietro al culo Sono più 240 E' meno 439 E' più 240 Io sto a meno 1067 Che è che No come hai fatto a morire Mi sono mai buttato nel ruolo Noo Si è spavato nel mondo normale Sì Ah per fortuna Ciao Vito Io non ti devo scavare verso il basso Non mi interessa Io non ci salgo Oh merda Sono caduto nel ruolo Eh pure te è ammasso Ah che quale Eh ha perso tutta la roba Fa niente che sei in ruolo Eh pure io Perché io sono l'unico vivo Brutta e merdaccia Perché tu non hai scavato Non c'è la bedrock Scavi finché non muori Trovo io che c'era Io sono sempre Ma questo che fa C'erano un'altra armatura Mi serve Si ci ritorniamo se vuoi Aspettate Fatevi muodire anche a me Aspettate Mettiamo qualcuno in live Almeno la gente si spaventa con noi Dai Ci guarda la compagnia Io ho preso una spada in pied Eh ha rotto il cazzo però Sti zombie di me No I zombie c'hanno le spade No no Ma è pieno di mob Eh oh Io vengo a casa tua Che cazzo devo dire No Più vicino a casa mia Che cazzo sta il portale È stato chiuso quello Ma scusa ma Eh l'hai chiuso? No Quando tutti i giocatori entrano Si chiude automaticamente Se lo sai Ah boh C'è una minchiata Credo Sai che cazzo ti dico Io mi sigillo Sto a casa di Mido Eh Io sto a casa mia Vieni qui c'è una cazza di Mido Eh Sto un po' lontano Merda Aspettate mi faccio un attimo Una spada al pistacchio No io mi faccio un attimo In pietro Cosa c'è Mido? È pieno di occhi A mezzi chiusi Eh finché sono mezzo chiusi Sei sicuro Ma vada baffanculo Ce n'era uno così aperto Quale è il problema? Basta non lo cagli È impossibile non cagarlo Ce l'ho davanti alla faccia Porco Dove Baffanculo Ma non posso uscirci In qualche modo Dio Benito Ho due cuori Dio Bono Ma non fa luce Le torce non fanno luce Usate un attimo Youtube Però dopo a farlo Ah bella Mattex Dove è Mattex? G3 G3 G5 Maxo le torce non funzionano Che merda Non funzionano? No Ho messo una torce La nuova c'è la luce Dai almeno al massimo Muori come noi Eh come No fanculo guardo Dove stanno Guardo gli occhi Scusate Youtube Bro Dio Pallo Pallo Pazzo Eh Tranquillo Dai io c'ho 22 bistecche Però eh Che palle Mi sono portato Il minimo Dio Spessabile Torniamo lì in quel portale Sì Mi riepizzate Scusate Youtube Bro Ma in realtà Ci possiamo Tipare qui A me l'ho fatto Comunque mi sa Ma è tipo Dove mai l'ho fatto Vero Posso prendere un po' di materiale Almeno la roba è pistacchio Eh no È un zaffiro Eh zaffiro Non so se no abbastanza Un zaffiro È Legna ce l'hai Ma metti una cesta No Non vito Roba Sott'altra spada A me l'ho 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 Max io faccio aprire uno Che c'è la mia No io Eh muori Mi sa No una volta io ero resistito lì Ma l'ha riempito di minerali Che pacchetto è? A te Che c'è pure scritto No Max io c'è stato un rumore assurdo Mi ha fatto mia la pelle d'oca Eh ritorniamo Che servirebbero Torniamo lì Però stavolta non moriamo Non sei morto? Non sono morto Ho guardato l'occhio intensamente E ancora quel rumore Non sei morto? Armadura Ci servirebbero Non sto morendo Continuo a guardare l'occhio Però non moro Ma non ti tippa? Sì continua a tipparmi Però Hai sempre lo stesso posto Allora che cazzo serve Scusa Mi metto lo zaffiro Bravo Ma andiamo Maxo Andiamo Sto cuocendo adesso Quattro bistec Oh due due Povero Ah merdaccia Ah c'ho le mele Mi prendo le mele Bravo E' fastidioso Maxo Dopo un po' eh Eh oh Aspetta intanto Mi sette waypoint A casa tu Bravo Allora quindi Quel portale si è chiuso Sicuri? Aspetta Però do mette Allora Che sai Come ho Maxo Hanno vita Hanno la vita Con le merdacce Ah è vero Allora Maxo Essendo che ti sei uccato Mette te vai Premi Premi e Poi va su option Vai su inventory E metti Resive mod Ah vabbè si Non ci sono più occhi Non ci sono più occhi Sì però non è città Vai andiamo Andiamo Un piccone Tanto poi ci rifacciamo Entriamo di qua Visto che ha detto Che dovrebbe essere chiuso Il portale Ma io non riesco a morire Fino che riesco a morire Proviamo da subito A non guardare gli occhi Guardiamo tutti due in basso Ma sta vicini Ah Eh merda Tu sei entrato Io non posso più Interare Devo mettere più forza La porta Ah metti Io sto guardando Tutto un verso In basso Che rumore Devo mettere più forza La porta Sennò un po' Quello si spade Tutto il mondo Che palle Allora Cos'è così Sto arrivando con la porta Ah sai cosa Ci potremmo Un arco Ci vediamo un arco Hanno vita gli occhi Lo sai Hanno 5077 di vita Ah poco dai Poco eh Canto c'hanno 5777 di vita Eh guarda il pandemonium 666 Eh più o meno Guarda ho riaperto il portale Sono dentro Ma io continuo a freddo il quadro Uno sta vicini eh Guarda per terra Stiamo vicini Io vedo il scriber tuo Cos'è che c'è di là Proviamo ad andare nei Oh Sembra buono questo posto eh Aspetta ma so che il portale si è entrato Sto shiftato Ci sono porte di ferro Cazzo Ci portiamo una leva Ma non ci abbiamo meno i roli Sì ce l'ho io un po' Oh Si è accesa la luce Ho sentito il rumore Sardo assurdo Torniamo un attimo a casa Torniamo un attimo a casa Servo la leva Servo la leva Sì Sto a casa Faccio la leva io Ho legno Ma faccio la leva Eh vai si riesce a farla subito Ho fatto No ho fatto Aspetta quella piccola Tu come la faccio questa Ma è un pezzo di cobre Ma fanno un paio di leve Fatta Ne faccio Tu E ho fatto No ho fatto Max prendi questa Ho sbagliato pure amico Prima ho fatto Che hai fatto? Eh ho sbagliato Ah è quello da lanciare Allora ho Io me li prendo Perché sono da lanciare Intanto poi finiamo nel vuoto Come prima 8-5 leve Max io ho fatto 5 leve 5 leve Vai allora possiamo entrare Dai Che cosa ho fatto Sto cose per lanciare Entriamo insieme? Eh non possiamo Perché si chiude Entra Entra E poi entro io Ogni volta che entra qualcuno Si chiude la porta No finché tutti i giocatori Non sono entrati Fell out of the world Perfetto Mi do Sei che sei morto Eh mi sono Ho dovuto uccidermi Porca droga Aspetta Guarda il creeper tuo Cosa devi guardare? Ah il creeper mio Guarda Detto la schiena Proviamo ad aprire Una porta di ferro Vediamo dove ci porta Dovrebbe portarci A tesori di case Quello di fianco a casa mia Ah ok allora Qua Prova What? Noll Si apre così Dove è che ci porta? Non so Va prima di Ma subito Guarda Oh occhi Non buono Stanno a far casino L'hai chiuso No No che non l'hai chiuso L'altro portale Chiudo occhi No 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 Non sale la testa O ci si tipano sotto È una specie di labirinto Però dovrebbe tipo Eserci l'uscita È un labirinto Vado prima io Mazzo Eh no Almeno se stiamo insieme Oh Non te l'ho visto un occhio Beh per io ho visto un occhio È proprio basso Mi sa che se non facciamo molto veloce Questi va si incazzano Qui se tipo ci mettiamo un po' a corde Sembra non buono C'è una porta qui Apri Per non riuscire Oh c'è Ma ci hai ritipato all'inizio Ah qua Ma ci sei? Io non c'è Entro eh Ma comunque un albero si è corroso Uh Max Oh Qua ci sono le ricchezze Però qua potremmo morire Potremmo morire malissimo Non guardare mai sopra Max Un albero si era corroso Eh Dobbiamo dobbiamo vedere Prova a buttare i blocchi Ah Questi si possono rompere Oh Attento Non fai cadere Buttiamo i blocchi Qua Qua non possiamo essere toccati dagli occhi Buttiamo i blocchi Per terra Se cascano Ah Genius Esatto Qua comunque non possiamo essere toccati dagli occhi Toccati dagli occhi Ok Meno male Più ci sta un'altra porta sopra Che facciamo? Sopra o sotto Perfetto Non so Ah guarda quante porte ci stanno Facciamo Qua mi sa che siamo in un limbo eh Vedi che gli occhi non ci sono Guarda pure tranquillamente Meno male Tu vuoi guardare il mio gripper Allora facciamo questa Questa qua Questa qua mi spiacchi di tutti Boh Andiamo 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 Vai tu vai Ti seguo Eh mi do È un po' difficile che ci trovi comunque Dove che siamo? Eh un altro lambirinto No triste Che palle Tu l'occhio mi sto a vedere Corri corri Si corri Non ho le porte Non ho le leve brutte merda Oh oh Hai visto? Si È incazzatissima Ma ti sono le porte Corri corri Non ti tipo Sì sì Puoi aprire la mano Le porte di ferro Sei? Ok Oh merda Guarda che sbaglio Ma voi siete entrati in quella Usciamo di qua Usciamo di qua Siamo Non mi ricordo Dove siamo entrati Ok qua Siamo fuori Siamo fuori Bella Questa è l'uscita No 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 romperlo Però voglio Fondare Prendi minerali Dobbiamo rientrare Eh rentiamo Vai Mamma mio piatto ricco Micifico Citero 40.000 blocchi di lontananza Ecco 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 Poi Ciao Mi do Oh ma siete qua Ah qua puoi guardare Anche in alto Guarda Non ci sono gioco Che figo Proviamo ad entrare qui sotto Questo qua abbiamo fatto Andiamo in questo qua dietro Ah questo qua Eh mi sa che sono uguali Buono Dentro io Ma eh mi sa piaci Ah sto bloccato No è l'aberinto È l'aberinto Oh che dio Corri se vedi l'occhio corri Se vedi l'occhio corri Oh Ho visto la vita di un occhio Come la vita Mi ha flashato la vita dell'occhio Mi stai seguendo Però potremmo uccidere gli occhi No non lo fare Si ingrandiscono più che possono Ah è vero Sì Purtroppo Pensa che vuoi Pensa che vuoi Uh Oh merda Raga E' uscito Usciamo 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 Sei uscito Sei uscito No non sono uscito Per una sega Qua No mi do Deve essere Sei a una porta di legno E' uscita Questa qua sotto Mi do Eh mi do Si è incastrato Dovevi seguire noi Mi do No non rompere Aspetta Mettimi blocchi Era una trappola assurda Maxo Dove sei Mi do Di nuovo Nell'oblio Che palle Vai Questo qua Questo Prima di ora Vai Vai Prima di ora Oh merda TNT Via 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 Vai Via Esplode tutto Esplode tutto Merda Ehm Sei morto No Vediamo Un occhio gigantesco L'ho buttato In un posto vuoto Tutto nero Nel posto Stavo prima Stavo prima No Anch'io ci sono caduto Che palle Sto rumore Che palle Scendiamoli in nuovo Però vediamoli Morire È malissimo In chi è peggio Un film horror Questo Sì Veramente Ma anche peggio Vaffanculo Occhi di merda Sucatemelo Sono occhio gigantesco OOOH Penso a me Mi hanno fatto il doppio troll L'hanno buttato La TNT Sappiamo che andavano indietro Eh anche a me Anche a noi Hanno fatto così Però io Ero rimasto sopra Ci son cascato La seconda volta Stavolta Io non ci casco Pezzi di merda Io dovevo morire Manca un venti blocchi alla morte Raga In live se mi sentite Sono bambini piccoli Andatemi via No non ci sta nessuno Raga io sto sotto Non vedo più gli occhi Non vedo più gli occhi Io si Sento i suoni Dimensione 23 La dimensione delle porte Sì Max sto a 600.000 blocchi di casa LOL Ma ti ti patto fuori da qualche parte Ho trovato un blocco rosso come la vedero Che non potrei 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 Ma potrei E ci sapere A modi di Petro Ok Sì Sì Però è rosso Fa paura Fatta Tu quando te ca Ti da un occhio C'è il disco rosso Eh sì In cui è da sta dimensione Una volta era Minecraft Una volta Io sto cercando di scendere Questo posto Questo posto assurdo Io non vedo gli occhi ma sento suoni che mi stanno Alquanto spaventando C'è qualcuno in live? Anch'io mi sto cagando in mano ti giuro Chiudi live stacca stacca Cago in mano Ma lì è entrato mio padre a casa Minch'io sono da solo Eh certo ci sono i blocchi Ci sono i blocchi certo Io vedo il mio death point No che sculo Dove sei Mido? No Mido dove sei? Dammi le coordinate Ma cosa che non so neanche dove sono Ho trovato due cesti e una porta in ferro Mi do premi M Fai waypoint Sei nella dimensione 23? Sì no Non so che cazzo è dimensione Dimensione 10 10? 10 Dimensione 10 Dimensione 10 Dimensione 10 Ah c'è la DM9 7 6 Io la 10 non ce l'ho No non ci credo Minch'io sei andato nell'unica in cui c'era roba Dai vabbè A me è soltanto la 9 Anche a me Oh ha smesso il rumore A me ancora no Però io sono al sicuro Però mazzo c'è un circuito di rezzo è un assurdo E fa No Io spero di scavare Oh ha sparito il rumore Mazzo Chiunque abbia fatto questa morte è un genio È uno stronzo È uno stronzo Perché ci dovevamo entrare in portale? Perché era fatta benissimo Sì che ti terrorizza No no Per quando trovi la roba L'ha fatta benissimo Ma hai visto che infami che erano? C'è non ci Se noi li guardavamo Li scendevamo qui Invece noi non li abbiamo guardati Ci hanno fatto una trappola Sti stronzi Ma si può? È lo schermo piano È lo schermo piano di occa Non riesce a scendere sotto la superficie Eh ma c'è proprio Io sono sceso Non ho suoni Non ho Non ho Non ho Non ho Io sto scendendo Mazzo Per essere un bambino Questo tizio era un ingegnaccio Sì Oh poi ci vuoi vedere tutti i sharpness? No Ci dividiamo il paure Va bene Esco Va bene Vuoi che ti tipo da me? Provati parti da me No Max No Io sono nella merda Perché? Perché mi hai ritipato lì Mi hai ritipato dove stanno tutti gli occhi Volete che vi tipo da me? Tipami Max Premi di più già te E' mazzo Ecco Però ti parti da me Ti sei tipato? Sì No Vedi da solo un uglielo faccio Vedi gli occhi? No Vedi che siamo al sicuro qui sotto Aspetta fermi un attimo Vado a prende tutto se la mangià Ok va bene Aspetta tipo mio Aspetta non tipare Non mi ci tipare Dimmi quando No è una cosa impossibile Anzi tipa di tutto da me No Non mi tipo Vuoi che mi tipo da te Mi do? No non lo fare È una cosa impossibile Senti troppi Finchè rimaniamo tutti nella stessa dimensione Possiamo tiparci Vuoi giochi? Ma poi Ti tipo mi do Non so se poi Vedo altri che ho altri cesti io Eh prendile Non so se poi perché lui se ne andrò in un'altra direzione Ah è vero Peccato Vai in caso noi possiamo fare tipi se ce ne andiamo da qui La sega di piccio ho un cuore in mezzo Sono morto Sono morto Sono morto? Non sei morto No Adesso sono morto seriamente però Tipami Max Non so se poi si può Sì Ci sei? Ti tipato? Sì È nella nostra dimensione Sì Max guarda Sai che non so dove sto scavando Facciamoli per la sala Guarda DAAA che leso No dimidiamo Mi servono delle diamanti Mi servono delle diamanti e basta Io ce ne ho cinque C'era un altro posto bruttissimo Max dei pistoni che continuavano ad andare Si chiudevano e aprivano LOL E tu dovevi andare in fondo C'era una porta Che palle Sono morto all'ultima porta Che buon avventura questa qua Non è avventura È morte Però adesso come usciamo da qui scusa? Non lo so Il mio figlio è di Max Io non ce l'ho messo Blast protection Fire protection E Sharknest 5 Prima di riservi in superficie o ci sono ancora gli occhi magari? Penso che si Ma io c'ho delle stringhe assurde Magari gli occhi se ne sono andati No raga T'ho pensato tutti e tre vicini però No raga Io raga provo a salire in superficie Voglio vedere se ne sono andati gli occhi Eh come una scaletta così Eh si In caso mi tipo da voi Voi state qui eh Non vengo con te No no In caso Se Ti mi pronto il TP Io ho paura Aspetta Max Ho qualcuna delle Dele enderai Enderper O qualcosa del genere Enderper no C'ho pronti il TP Che ti porti la cosa Da 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 Eh no Mi do il miglior Non mettetevi in mezzo Guarda che siamo tutti fottuti se succede qualcosa Non è che mi sarebbe attaccato al culo Vuoi vedere una cosa bruttissima Che la biancola di salvezza Ok vuoi vedere una cosa bruttissima Secondo me gli occhi non ci sono Eh Ah si c'è ancora Non lo so Ma secondo me non ci sono No in questa dimensione non c'è Cazzo dimensione è mai questa scusa Ne so io La dimensione delle porti Raga comunque io l'avevo visto No no che dimensione Comunque fuori c'è un portale Io l'avevo visto La prima volta che siamo morti C'è un portale lì Da qualche parte In superficie Se no gli occhi non ci sono più Perché ti parvi proprio da me scusa Oh l'occhio Si sta incazzando Lo vedo Ti do la roba Quello che ho Eh ci vado io Ok Ben giù Ok non lo vedo più Max Ti avviso E' bruttissimo Ti do tutta la roba che ho Proprio Ma lì È proprio quello che ha trovato Anche questa è una cosa stranissima Guarda le stringhe Una specie di stringhe Hai fatto l'archivamente Give the ammo Vero Dammi un attimo Il posto I libri Come va Uno far protection Guarda le stringhe Sono una cosa stranissima Le stringhe Ah ma non è tantissima roba Le stringhe sono di questa dimensione Dammi un po' di roba Si Ah c'è andato Mido Si Colander per farne qualcosa A vero che non c'ho tanto C'ho 4 ferri 5 diamanti Uno smeraldo Una redstone Un nether quartz E due libri Schifosi pure No blast protection Magari non è Non tanto E queste Queste stringhe Raga Merda Occhi Cos'è ci possono comparire I libri Non sento più rumore Non sento più rumore Non senti? Sono sopra E sono sopra Sei sopra? Salimo mazzo Ti tippano? No 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 Non mi stanno tippando Sono sopra e sto camminando Però non mi stai guardando vero? No Sto guardando in basso No Come una brava persona Mi stanno uccidendo Che cazzo fai giochi? Eh dove In qualche modo uscire Ma sta qua la scaletta di Mido? Fanculo Cazzo siamo fuori No No Aspetti Mido Mido dove sei? Mi hanno buttato via C'è stato un lampo assurdo Ho guardato un occhio E pre sbaglio Ecco una lampo Chi è? Chi è? Chi è? Ah girl Minchini Mi sto cagando in mano Qua te lo dici Raga dobbiamo Cioè dobbiamo guardarci i piedi Come gli enderman Oh Che è sto suono? Non lo sento Ho sentito tipo Qualcuno che gatta Ecco adesso ti tipano Adesso ti tipano in alto E ti ammazzano Vabbè Chissene Dobbiamo trovare il portale Sì Sto cercando Ti hanno tipato vero? No ha tipato No Sto dietro di Max Ti senti il rumore di grattare Per poi un'esplosione E ti hanno tipato No no Sento grattare Oh Sento grattare Sento grattare Sto vicino a un occhio Molto vicino a un occhio Quindi Guardo Ah finchè stanno Finchè noi Finchè noi ci muoviamo Tutto a posto Max Non c'hanno 5.000 di vita C'hanno 57.000 di vita Lol E io sto guardando in alto Non li vedo le occhi Io ne vedo fin troppi di occhi Oh oh No appaiono Se guardi troppi in alto appaiono Se ci continuano a muovere Non fanno cazzo Guarda in basso Max Cos'è? No questo è No E' anch'io Tranquillo Tranquillo Ma no Me l'ho portato in alto A me no Me l'ho portato in alto L'esplosione Del Dio Cristo Si pizzate da me Max Non sta vicini Aspetta fammi un attimo correre Ancora Io non li ho guardati Max C'era uno vicino Ci vediamo molti vicini Ma prova a fare una cosa Andiamoci di sotto e picchiamoli Max sono rimandati Ma io me li sono venivi Ci sono occasioni di occhi vicino Dobbiamo sempre correre Io provo a guardarlo E' finisci male Finisci male Finisci male Finisci male te lo dico E che è successo Su Fox Max io dove ho cominciato a picchiarlo Ha iniziato a picchiarlo Che ha fatto? E' nulla Mi ha ritoppito in alto C'è adesso Ti guardo Ma se proviamo a ucciderli Quindi Si aprono E' se proviamo a ucciderli Anche se ci hanno Un vita improponibile Comunque li vediamo Attraverso i muri Sti occhi Milo forse 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 so dove sei No Connection to server lost Addirittura Che cazzo è successo? Ha crashato Maxo Mi piace Sto facendo un blocco Al minuto Siete ancora dentro voi? Si Ah no Mi è crashato il server Non mi piace che è crashato Sto avviando il server E anche io sto crashato Oh merda Io ho paura Io ho Ok È crashato il server Io mi sono tipizzato da Max E è crashato Eh infatti Questo ha fatto crashare Brutto idiota Cazzo Lo diciamo anche a te No perché Mi sono tutti e tre vicini Non è per cui Non te lo fa cuore Perché sta prelaggato il server Vi dico questo Va andiamo Eh Max In questo modo ti dice Quello è il server È liquidato No Oh Sto nella dimensione 10 Io Forse Forse No Sto sempre a 23 Io continuo a correre Mi frega un cazzo Oh Vedo i cosi Vedo i waypoint della nostra dimensione Forse posso trovare il portale Sempre se non guardo gli occhi Vedo tutti i waypoint della nostra dimensione Ho trovato il portale raga Eh no ho amantipato Ho visto No Avevo appena trovato il portale Max la meta è il betlogy La betlogy Eh dove li avviate le pacche Li vedo ancora li vedo ancora Finchè sono buggati siamo salvi Perché lì in zona c'è il portale Lo seguo che riavvio il pacche Giochi Eh Tipati da me Ho tantissimi occhi Tantissimi Vicini Sono quasi a 500 metri dal portale Non c'hai Non ti parti più Fuori dietro di me Eh ma ti chiedo Anche a me no Finchè poi Boh Tipati da me Mannaggia attieni ripeto Sempre Sto a 370 metri Occhi 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 Appena avvi gli occhi Girati Cambia direzione Eh ma ti vado Sto a paccare di FPS A me è diventato Ma ho mandato fino a 10 Non so perché Sto vicino Sto vicino al portale probabilmente Cazzo non lo so C'è un po' paura Comunque io ero arrivato al limite del mondo Non vedevo più nulla No Oh C'è l'occhio dietro C'è un occhio dietro C'è un occhio dietro Secondo me questi occhi tipo ci sparano qualcosa che ci tipa sopra Ma chi è Ma chi è Chi è Oh no no rimettila stavo meglio No mi puoi rimettila Aspetta mettiti l'occhio Raga sono sempre più vicino Sono sempre più vicino Mi tipano Anche se mi tipano sono sempre più vicino No ma mi tipano dall'altra parte del mondo Vaffanculo Occhi di merda Se proviamo a passare sotto terra Ragazzi proviamo a passare sotto terra Oh mi stava per tippare Vieni giù Eh grazie Dai idiota Sei un coglione Sei un coglione Giochi Siamo bloccati nello stesso buco Eh mi do togli la musica Vado un po' Mi do Eh Eh giochi Non sono io Aspetta Se ci c'è da guardare gli occhi Apri io Guardo gli occhi Cioè sta uno sotto Che si sta per aprire Oh Finito il suono Stai fermo Stai fermo E ti metti in un altro angolo Stai Porco Dio Bono Casca dove sbagli Sei un coglione Tipo di amido Amido non c'è Ma cosa Che io non sono ancora entrato Eh Sono a merda Ah senti Saltiamo insieme Così li metti i blocchi sotto 3 2 1 Eh si Desincronizzati saltiamo Via Oh non ce la faremo mai Senti ma quanto Ma guarda quanto Senti Proviamo per ora a scavare Da sopra Oh bravo Minchia Usare youtube Però Cioè non è possibile Gli occhi che mi guardano Gli occhi che mi guardano Porco Schifo Mi stanno tutti guardando Dio caro No c'è lo schermo pieno Maxo Anch'io Oh Sto della bedro No me l'ho tipato Ma un tipato nel mondo normale Se tocchi la bedrock rossa Ti tipa nel mondo normale Che culo Sto a 640 blocchi da casa mia Eh anch'io per me Oh ho trovato un altro vulcano Mi pizzate Scusate youtube Però No il tp l'ho consentito Vedi che si è spawnata Palla roba lì Che culo Che culo Che culo Veramente Non siamo morti Stavolta Io vedi che sono nella merda Io sono nella merda Oh stavolta Non siamo morti Tu non sei morto Ehm Non ti parlo No ci dobbiamo rientrare Maxo Io sono veramente Cosa Dobbiamo prendere i trofei Ci dobbiamo rientrare Ma vai affanculo Oh avete preso Avete la roba Sì ho la tua roba Che roba che mi hai dato Lascia due Un diamante in casa mia E sai dov'è Maxo Casa mia Sì sì Arrivarci un attimo Sì siamo un po' distanti Lo smeraldo E Il coso lì è mio Eh Tra 300 metri Te lo lascio Ah beh Quare Quanto siamo in live Sempre uno Sarei io quello Eh A nessuno interessa Spaventarsi In effetti La gente che se caga sotto Mamma mia Ma io non sono ancora Più da aprire il pack Mamma mia che schifo Senti io corro come una iena Oh Oh Ma è un bug sta cosa Cosa? I waypoint Se ci fai caso Se vai a 126 metri Precisi Da waypoint E si illumina Prova ad andare a 126 metri Da un waypoint E si illumina Io ancora so 200 Qua è sta a 200 Un altro portale Portale 2 Perfetto So dove è casa mia Oh tu mi servi Io ti uccido Tu mi servi Non mi ha dato il filo Oh vediamo come sta messo il portale 3 No Dove siamo entrati No No È ancora aperto il portale Ma che cazzo è sta roba Dai Non è vero Con questo non ti daranno mai copyright Io non riesco ancora a entrare Better oggi Grazie Siamo a casa Meno male Veno mele No ragazzi Sto facendo sti cose Non siamo più attrezzati noi ora No infatti Ma Max Mi dà ancora peggiorno Che è successo? Ah ma soggiorno Che ce ne facciamo gli sti blocchi? Sono belli Sì Io ci faccio casa questi blocchi Poi se mi tipano la casa Danno un'altra dimensione Chi se ne volte? Spero non mi tipano la casa In un'altra dimensione Oh Adesso possiamo dire Che siamo stati In una dimensione Del terrore Il terrone Il torrone Ora solo io ho trovato roba Brutta e merda Oh intanto di che è stata Di rientrarci Sì Però sono stato l'unico a trovare Eh vabbè Se tu sei capitato Una dimensione 10 Tu sei entrato Nella dimensione 10 Non nella 23 Che cazzo No io sono entrato In ventordici In ventordici In ventordici Dimensioni Sì in ventordici Io invece stelle Io invece stelle A me però piacerebbe Uccidere uno di quei cosi Io ce l'ho provato Sto solo in it Ah ma qui non c'è la red matter Vero? Sarebbe stato troppo C'è la red matter? No 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 Non c'è la red matter Però c'è la red matter Se vuoi Se vuoi Eh ci potremmo fare l'armatura Super OP E poi che cazzo se ne fotte Gli occhi Quanto non so I trovato se vuoi Oh 2.6 C'è invisibile Ah ecco Vai cibo No Non cazzo morì Eh piuttosto morì Oh e senti Cos'è che vuole a lui Giochi Vai te Cosa su Guarda gli diamanti Smeralda Eh ok A me Anzi no Lascio qua La sua cesta Questa qui No no Io guardo appunto io Le diamanti mi posso prendere Io però 3 Sì me ne servono Uno e uno Smeralda Per fare l'autospawner Quante che ne vuoi? 3 e uno Smeralda In totale 4 Mi devi dare il diamante Eh in totale 4 Ne ho 4 in mano Eh no Mi devi dare altri 3 a me Che fai Io te ne do uno Basta Tu ti sei sprecato La spada in diamante Eh vabbè Però mi devo fare D'altro Generali No Eh poi Mi devi dare Tutti Se non mi rompi E me li dai dopo Ah io non tengo il ferro Le stringhe Voglio sapere A cosa servono Uh Eh per fare Una cosa Non so cosa La fabbrica stabile Possiamo fare Un portale stabile Eh no È mio Cosa è mio Da piazzare Le stringhe Si può fare Un portale stabile Devo farci una cosa io Cos'è che vuoi farci La spada Lo so che vuoi farti la spada Insomma Con le stringhe Si Ma sei scemo Guarda cosa puoi fare Con le stringhe Puoi fare una spada Non è vera Ma sei scemo Questa spada Io l'ho già provata Questa apre Delle porte temporanee Questa spada E infatti Per quella Mi serve a me Pirla Ma guarda che Diversità Porta fisica Perché devo ritornare Nella dimensione 10 Devo vedere una cosa Il marking genio Che ho usato Questo della mod Per farti trovare Le ceste È una cosa assurda Ma cosa che c'è Scritto Il due micro Un po' Due Ma se facciamo Invece C'è È una cosa assurda Ma se invece Facciamo Facciamo Delle porte stabili Ma non è che Le stringhe Si possono fare In qualche modo Secondo me Bisogna fare la porta E guarda che Non ti bastano Per fare la spada Ah no Sì ti bastano Al pelo Vabbè Facciamo la porta Cioè Al posto che fare Due porte Tu vorresti fare Una spada Due porte Vuol dire Che abbiamo Quella di entrata E quella di uscita Ma potremmo Ma è vero Non abbiamo Neveva interperla Eh Quella di entrata In teoria ce l'abbiamo Quella di uscita Ci serve Vuol dire Che la possiamo Piazzare E possiamo uscire Ma io vuol dire Che possiamo Concludere quella live Siamo in live Da tre ore Siamo in live Da tre ore In quarto Lascia lì la roba Che ti ho dato Almeno Sì sì C'era lui No ma anche le stringhe Devo fare le porte Eh stanno Te lascio qua Nella cesta Vuol dire Almeno un test Morto 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 T.S. Marzo No No Che mi senti Potremmo dire Che non è morto Eh Non ti sentivo Per due secondi Per Cinque minuti Trent'anni Ma sai che non mi senti mai Perciò Vai io concludo Ti ho portato Carboni Dove Di carbone Adesso arrivo Ciao live Ciao raga Ciao Ciao